Questo video è stato prodotto da Menad, Daniele Sozzi, Lord Ioanni Rumbukainen, Matteo Bosi, Nick Seiri e Elisabeth Lumori. I Salici di Algernon Blackwood Lettura di libri in pillole Capitolo primo Lasciata Vienna e molto prima di toccare Budapest, il Danubio si inoltra in una regione inusualmente solitaria e desolata. Lì le sue acque si ramificano in tutte le direzioni, deviando dal corso principale, e la campagna si trasforma in acquitrino per miglia e miglia, ricoperta da un vasto mare di boschetti di salici. Sulle principali carte geografiche, questa regione deserta è colorata ad un azzurro vago che diventa più tenue man mano che si allontana dalle rive del fiume e attraverso di essa è scritta, in grosse lettere spaziate, la parola Sünf, che significa paludi. Quando il fiume è in piena, questa vasta distesa di sabbia, ghiaia e isolotti coperti di salici è quasi del tutto sommersa dalle acque, ma nei periodi normali gli alberi si piegano e fremono ai venti, mostrando al sole le loro foglie argente in una pianura mutevole d'una bellezza densa di sgomento. Questi salici, a dire il vero, non raggiungono mai la dignità di alberi. Non hanno tronchi rigidi, rimangono poco più che cespugli, con le chiome arrotondate e profili dolci, oscillanti su steli snelli che si agitano alla minima sollecitazione del vento. Sono flessibili come fili d'erba e sempre in movimento, fino a dare, in certo modo, l'impressione che l'intera pianura si muova e viva. Poiché il vento fa nascere onde che si sollevano e ricadono sull'intera superficie, onde di foglie, anziché d'acqua, e verdi come quelle del mare, quando i rami si voltano e si sollevano, e poi di un bianco argente o quando le pagine inferiori delle foglie guardano il sole. Felice di sfuggire al controllo di argini ben limitati, qui il Danubio vaga a suo piacere nell'intricata rete di canali che dovunque ritagliano fra gli isolotti larghi viali liquidi lungo i quali le acque si precipitano con suoni urlanti, creando vortici, risucchi, rapide e schiumanti e graffiando le rive sabbiose, strappando via frammenti di sponde e ciuffi di salici e formando innumerevoli nuove isole che mutano ogni giorno dimensioni e forma e posseggono vita instabile, poiché la piena successiva cancella la loro stessa esistenza. Per l'esattezza, questa parte affascinante della vita del fiume comincia subito dopo Pressburg e noi due, nella nostra canoa canadese con una tenda come gli zingari e una pentola a bordo, la raggiungemmo sulla spinta della piena montante verso la metà di luglio. Quella stessa mattina, mentre il cielo s'arrossava prima del sorgere del sole, eravamo scivolati velocemente attraverso Vienna che ancora dormiva e un paio d'ore dopo era diventata una semplice nuvola di fumo all'orizzonte sullo sfondo delle colline azzurre del Wienervald. Avevamo fatto colazione poco dopo Fisherman, sotto un boschetto di betulle che stormivano al vento, e poi eravamo volati sulla corrente vorticosa oltre Ort, Heimburg-Petronel, l'antica carnuntum romana di Marco Aurelio, e quindi avevamo proseguito sotto le cupe alture di Teben, su uno sperone dei Carpazzi, dove il fiume March si insinua da sinistra nel Danubio e si passa la frontiera tra l'Austria e l'Ungheria. Proseguendo a 12 km l'ora, fummo presto ben dentro nell'Ungheria e le acque fangose, segno certo di una piena, ci mandarono ad arenarci su molte barene di ghiaia e ci fecero girare come un turacciolo in parecchi improvvisi e rumorosi vortici, prima che le torri di Pressburg, in Ungherese e Pogioni, si mostrassero contro il cielo. Quindi la canoa, saltando come un cavallo imbizzarrito, volò ad incredibile velocità sotto le muracinere, schivò senza danni la catena immersa del traghetto di Fliegendebrüche, superò la curva verso sinistra e si immerse nella schiuma gialla di quella solitudine di isole, argini e paludi, la terra dei Salici. Il cambiamento d'orizzonte sopravvenne improvviso, come quando una serie di immagini del bioscopio si chiude con le vie di una città e si riapre inaspettatamente su panorami di laghi e foreste. Entrammo in quella terra desolata quasi su un paio d'ali e in meno di mezz'ora non c'era più né una barca né una capanna di pescatori né un tetto rosso né un solo segno di abitazione umana o di civiltà sin dove giungeva lo sguardo. Il senso di lontananza dal genere umano, il completo isolamento, il fascino di quel singolare mondo di salici, venti e acque fece d'un tratto cadere la sua magia su entrambi, tanto che ammettemmo scherzosamente che avremmo dovuto a voler essere in regola possedere un tipo particolare di passaporto per penetrare in quella regione e che eravamo entrati con una certa audacia senza chiedere permesso in un piccolo isolato regno di meraviglie incantate. Un regno riservato ad altri che ne avevano diritto e che recava dunque invisibili cartelli di divieto d'accesso per coloro che avessero immaginazione sufficiente per scoprirli. Pur essendo ancora primo pomeriggio, gli schiaffi incessanti di un vento alquanto impetuoso ci avevano reso esausti e cominciammo subito a guardarci intorno per trovare un posto adatto ad accamparci per la notte. Ma lo strano carattere di quelle isole rendeva difficile l'approdo. La piena turbinante ci portava a contatto delle rive e ci spingeva di nuovo a largo. I rami dei salici ci laceravano le mani quando li afferravamo per fermare la canoa e trascinammo nell'acqua diversi tratti di riva sabbiosa prima di finire per un grosso colpo obliquo di vento in un risucchio e di riuscire a mettere a terra la prua in una nuvola di spuma. Poi ci stendemmo ansanti e ridenti dopo quegli sforzi su una sabbia calda e dorata riparati dal vento nel pieno splendore d'un sole bruciante con un limpido cielo azzurro su di noi. E un immenso esercito di macchie di salici danzanti e urlanti che ci circondavano da ogni lato lucidi di spruzzi e battevano le loro mille piccole mani come ad applaudire il successo della nostra impresa. Che fiume! dissi al mio compagno pensando a tutto il cammino che avevamo compiuto sin dalla sorgente nella foresta nera e a come spesso eravamo stati costretti ad avanzare a guado spingendo la canoa nelle secche più a monte all'inizio di giugno. Ora non scherza più non credi? disse il mio compagno spingendo la canoa più al sicuro sulla sabbia. Poi si dispose per un sonnellino. Mi distesi al suo fianco felice e sereno in quel bagno di elementi naturali acqua vento sabbia e il gran fuoco del sole pensando al lungo tratto che ormai era dietro di noi e alla lunga strada che avevamo dinanzi sino al mar nero e a quanto fortunato ero ad avere un compagno di viaggio allegro e piacevole come il mio amico svedese. Non era la prima volta che facevamo insieme viaggi come quello ma il Danubio più di ogni altro fiume di mia conoscenza ci aveva impressionati sin dall'inizio con il suo aspetto vivo. Dal suo piccolo ingresso gorgogliante nel mondo tra i boschi di pini di Donoeschingen sino a questo momento in cui cominciava a giocare il grande gioco di nascondersi e perdersi tra gli acquitrini deserti inosservato senza freni c'era sembrato di seguire la crescita di una creatura vivente. Sonnacchioso da prima ma poi sviluppando desideri violenti man mano che diveniva cosciente della sua anima profonda scorreva come un enorme essere fluido attraverso tutte le regioni che avevamo percorso mantenendo il nostro piccolo scafo sulle sue spalle potenti giocando talvolta rudemente con noi ma sempre cordiale e pieno di buone intenzioni sicché alla fine eravamo giunti inevitabilmente a considerarlo come un gran personaggio e in vero come poteva essere altrimenti se ci rivelava tante cose della sua vita segreta di notte lo udivamo cantare alla luna mentre giacevamo nella nostra tenda emettendo quella strana nota similante tutta sua che dicono causata dal rapido sfregare dei ciottoli lungo il suo letto tanto grande è la sua ansante velocità conoscevamo anche la voce dei suoi vortici corgoglianti che traboccavano improvvisi su una superficie sino a quel momento del tutto calma il rugito delle sue rapide veloci e poco profonde il suo tuonare costante e fermo al di sotto di tutti i semplici rumori di superficie e quell'incessante graffiare delle sue acque freddissime contro gli argini come alzava il capo e urlava quando le piogge cadevano implacabili sul suo viso e com'era sonora la sua risata quando il vento soffiava controcorrente e tentava di fermare la sua crescente velocità conoscevamo tutti i suoi rumori e le sue voci i suoi turbini e le sue schiume i suoi inutili schiaffi contro i ponti il suo chiacchierio tra sé e sé quando c'erano colline da guardare la dignità affettata del suo discorso quando passava attraverso le piccole città troppo importante com'era per ridere e tutti quei bassi dolci mormori quando il sole lo coglieva in qualche lenta curva e lo colpiva sino a farne sollevare i vapori e conosceva anche infiniti trucchi sin dall'inizio della sua vita prima che il grande mondo ne facesse la conoscenza c'erano luoghi nelle più alte pianure perse tra le foreste della Svevia quando ancora i primi sussurri del suo destino non l'avevano raggiunto dove decideva di scomparire attraverso i fori nel suolo per ricomparire sull'altro lato di porose colline calcare e rinascere come un nuovo fiume con un altro nome lasciando così poca acqua nel suo letto da costringerci a scendere dalla canoa guadare e spingere per chilometri di acque basse un grande divertimento in quei primi giorni della sua irresponsabile giovinezza consisteva nell'acquattarsi come fratel Volpone prima che i piccoli turbolenti tributari venissero a raggiungerlo dalle Alpi e rifiutare di accoglierli ma correre per chilometri al loro fianco con la linea che li separava ben segnata i loro stessi livelli ben diversi poiché il Danubio rifiutava decisamente di riconoscere i nuovi arrivati dopo Passau comunque rinunziava a questo scherzo perché in quel punto Lin sopraggiunge con una tuonante potenza che è impossibile ignorare e spinge e infastidisce il fiume Padre in tal modo che non c'è quasi spazio per essi nella lunga tortuosa gola che segue e il Danubio è spinto di qua e di là contro le rupi e obbligato ad affrettarsi con grandi ondate e molto urtare avanti e indietro per passare in tempo durante questa lotta la nostra canoa era scivolata e si era immersa e aveva incontrato parecchie difficoltà tra le onde combattenti ma Lin dava una buona lezione al vecchio fiume che dopo Passau non poteva più fingere di ignorare le acque dei nuovi affluenti questo era successo molti giorni prima naturalmente e da allora eravamo riusciti a conoscere altri aspetti di quella grande creatura e attraverso la fertile pianura bavarese di Straubing ricca di grano il fiume procedeva tanto lentamente sotto il caldo sole di giugno che potevamo ben immaginare come solo un sottile strato della superficie fosse d'acqua mentre al di sotto si muoveva nascosto da un serico mantello un intero esercito di ondine che si muovevano silenziose e invisibili verso il mare molto lentamente per non essere scoperte altre cose inoltre perdonavamo al grande fiume per l'amicizia che dimostrava agli uccelli e agli animali che ne animavano le sponde cormorani ne ornavano gli argini nei luoghi più solitari in fila come paletti neri corvi grigi affollavano i letti di ghiaia cicogne andavano a pesca nelle distese di acqua bassa che si aprivano tra le isole e falchi cigni e uccelli di palude ed ogni specie riempivano l'aria di ali lucenti e di grida canore e petulanti era impossibile sentirsi irritati per le stravaganze del fiume dopo aver visto all'alba un daino saltare nell'acqua tra gli spruzzi e nuotare oltre la prua della canoa e spesso vedevamo cerbiatti che ci spiavano dalle macchie o il nostro sguardo incontrava ad un tratto gli occhi bruni di un cervo dopo aver superato a gran velocità una curva ed essere entrati in un nuovo tratto del fiume anche le volpi animavano dovunque le sponde avanzando con eleganza tra i rami portati a riva dalla corrente e scomparendo tanto improvvisamente che era impossibile comprendere come facessero ma adesso dopo aver superato Pressburg tutto era un po' cambiato e il Danubio si era fatto più serio aveva smesso di scherzare si trovava ormai a metà strada dal Mar Nero quasi a portata ad olfatto da nuovi più severi paesi dove non sarebbero stati permessi o compresi altri scherzi divenuto improvvisamente adulto pretendeva il nostro rispetto e persino il nostro timore si divideva in tre bracci anzitutto che tornavano ad incontrarsi di lì a 100 chilometri e per una canoa non c'erano indicazioni su quale fosse da seguire se prendete un braccio laterale ci aveva detto l'ufficiale ungherese incontrato in una bottega di Pressburg mentre compravamo provviste potreste trovarvi quando la piena s'abbassa arenati a 60 chilometri da ogni luogo abitato e potreste morire di fame non c'è gente fattorie o pescatori vi consiglio di non continuare inoltre il fiume si sta gonfiando e il vento rinforzerà la piena non ci allarmava ma il fatto di essere lasciati in secca da una improvvisa ritirata delle acque poteva essere seria e di conseguenza ci eravamo procurati una maggiore quantità di provviste per il resto la profezia dell'ufficiale si realizzò e il vento che soffiava in un cielo perfettamente limpido andò costantemente aumentando sino a raggiungere le proporzioni di un fortunale proveniente dall'occidente ci accampammo più presto del solito quando mancavano ancora un paio d'ore al tramonto e lasciando il mio amico ancora addormentato sulla sabbia calda mi allontanai per compiere una sommaria esplorazione della nostra nuova dimora trovai che l'isola era ampia a meno di mezzo ettaro un semplice banco di sabbia che si sollevava per meno di un metro sul livello del fiume l'estremità rivolta in direzione del tramonto era schiaffeggiata da spruzzi che il vento vigoroso strappava alle creste spezzate delle onde l'isola era di forma triangolare con l'apice controcorrente per diversi minuti rimasi a guardare l'impetuosa piena rossastra che calava con un rombo assordante e scagliava le onde contro le rive come a trascinarle via per poi dividersi in due spumeggianti torrenti sui due lati la terra sembrava tremare sotto l'urto e lo schianto mentre il frenetico movimento dei salici scossi dal vento accresceva la curiosa illusione che l'isola stessa si muovesse realmente in su per un paio di chilometri vedevo il grande fiume che discendeva verso di me era come guardare dal basso il declivio di una collina bianca di schiuma che fuggiva da ogni lato e brillava al sole la parte rimanente dell'isolotto era troppo fittamente ricoperta di salici perché il passeggiarvi potesse risultare piacevole tuttavia ne feci il giro completo all'estremità inferiore la luce cambiava e il fiume appariva scuro e rabbioso erano visibili solo i dorsi delle onde veloci striate di schiuma e spinte con forza dai grandi colpi di vento che le incalzavano lì il fiume era visibile per meno di un chilometro e mezzo e scorreva tra le isole per poi scomparire con un'ampia curva tra i salici che gli si chiudevano intorno come una mandrea di mostruose creature antidiluviane che si affollassero per abbeverarsi mi fecero pensare a gigantesche spugne che assorbissero il fiume lo facevano scomparire alla vista fitti come erano in qualità incalcolabile era una scena impressionante nella sua assoluta solitudine e bizzarra suggestione poi mentre guardavo a lungo e con curiosità un'emozione singolare cominciò a destarsi nel più profondo del mio essere nel mezzo del mio incanto di fronte a quella bellezza selvaggia si insinuò in attesa e inspiegabile una curiosa sensazione di turbamento quasi di allarme un fiume in piena forse suggerisce sempre qualcosa di infausto molte delle piccole isole che avevo dinnanzi sarebbero state probabilmente spazzate via prima della mattina seguente quell'irresistibile tonante massa d'acqua suscitava un senso di timorosa reverenza tuttavia mi accorgevo che la mia inquietudine aveva origini più profonde che le emozioni della paura e dello stupore non era questo ciò che provavo né aveva direttamente a che fare con la forza del vento impetuoso quell'urlante uragano che avrebbe quasi potuto sollevare interi ettari di salici in aria e disseminarli tutti intorno come fili di paglia sembrava che il vento si stesse divertendo mentre nulla si innalzava sul piatto panorama per fermarlo e io ero cosciente di prendere parte al suo grande gioco con una specie di piacevole eccitazione questa nuova emozione però non aveva nulla a che fare col vento infatti il senso di desolazione che provavo era tanto vago che era impossibile scoprirne l'origine e combatterlo adeguatamente sebbene mi rendessi in qualche modo conto che aveva a che fare con la coscienza della nostra completa nullità dinanzi alla forza incontrollata degli elementi scatenati intorno a me il fiume divenuto immenso aveva anche lui la sua parte in quella emozione era la vaga e spiacevole idea che noi avessimo scherzato troppo con le grandi forze degli elementi in potere delle quali giacevamo indifesi in ogni ora del giorno e della notte perché lì esse erano davvero riunite in un gioco gigantesco e ciò che si vedeva colpiva l'immaginazione alla mia inquietudine per quanto potevo capire sembrava essere maggiormente legata ai salici ettari ed ettari di salici che si affollavano crescevano fittamente pullulavano in ogni direzione che l'occhio potesse seguire premevano sul fiume come per soffocarlo si estendevano in dense schiere per chilometri e chilometri sotto il cielo guardando aspettando ascoltando e completamente staccati dagli elementi i salici si collegavano sottilmente alla mia malese aggredendo insidiosi la mia mente forse a causa del loro numero enorme e riuscivano in qualche modo a presentare all'immaginazione un nuovo e immenso potere ma un potere per nulla amichevole verso di noi le grandi manifestazioni della natura non mancavano mai di impressionare in un modo o nell'altro e io non ero estraneo a stati d'animo del genere le montagne intimoriscono e gli oceani atterriscono mentre il mistero delle grandi foreste esercita un fascino particolare ma tutti questi sentimenti per un verso o per l'altro sono legati intimamente alla vita e all'esperienza umana suscitano emozioni comprensibili anche se allarmanti nel complesso tendono ad esaltare l'animo ma in quella moltitudine di salici avvertivo qualcosa di diverso se ne liberava un'essenza che stringeva il cuore si ridestava un senso di reverenza è vero ma una reverenza che sfumava quasi in un vago terrore i loro ranghi fittissimi che diventavano sempre più cupi intorno con l'addensarsi delle ombre muovendosi al vento furiosamente e armoniosamente insieme creavano in me la curiosa e sgradevole sensazione d'aver varcato le frontiere di un mondo estraneo un mondo nel quale eravamo degli intrusi un mondo dove non eravamo graditi o invitati a restare e dove forse correvamo dei gravi rischi tuttavia quella sensazione sebbene difficilmente analizzabile in quel momento non mi turbò sino a percepirla come una minaccia ma non mi lasciò mai del tutto nemmeno durante l'occupazione molto pratica di tirar su la tenda durante un vero uragano e di accendere il fuoco per la teiera ma persisteva quanto bastava per infastidire e rendere perplessi defraudando un delizioso campeggio di buona parte del suo fascino al mio compagno comunque non dissi nulla perché lo consideravo un uomo privo di immaginazione in primo luogo non sarei mai riuscito a spiegargli ciò che sentivo e poi se anche ci fossi riuscito pensavo che avrebbe riso di me c'era una leggera depressione al centro dell'isola e lì piantammo la tenda i salici intorno ci riparavano un poco dal vento è un accampamento ben misero osservò l'imperturbabile svedese quando infine la tenda fu montata non ci sono pietre e la legna da ardere è davvero poca io sarei favorevole a proseguire domattina presto questa sabbia non reggerà a lungo ma l'esperienza che avevamo con le tende che avevano l'abitudine di crollare nel bel mezzo della notte ci aveva insegnato molti trucchi e rendemmo quel piccolo rifugio da zingari quanto più sicuro possibile quindi ci mettemmo in giro per raccogliere una provvista di legna che ci fosse sufficiente sino al momento di andare a dormire i salici non lasciano cadere rami e la nostra sola fonte di rifornimento erano gli arbusti portati dalla corrente del danubio per l'ustrammo coscienziosamente le rive dovunque gli argini si sbriciolavano man mano che la piena crescente li aggrediva e ne portava via grosse fette tra schizzi e gorgogli l'isola è già molto più piccola di quando siamo approdati disse il metodico svedese non durerà molto di questo passo meglio portare la canoa vicino alla tenda ed essere pronti a partire da un momento all'altro io dormirò vestito si trovava a una certa distanza da me e stava salendo verso l'argine udivo la sua allegra risata oltre le parole per giove lo sentì esclamare un momento dopo e mi voltai per vedere che cosa avesse causato il suo stupore ma in quel momento era nascosto dai salici e non riuscì a scorgerlo santi nomi e quello cos'è lo dì gridare ancora e questa volta la sua voce era diventata seria correndo velocemente lo raggiunsi sull'argine stava guardando il fiume e indicava qualcosa nell'acqua buon dio è il corpo di un uomo gridò agitato guarda una cosa nera che si rigirava tra le onde spumeggianti ci passò davanti rapidamente continuava a scomparire e a tornare di nuovo in superficie era circa sei metri dalla riva e quando fu proprio di fronte al luogo dove eravamo si rivoltò e guardò dritto verso di noi vedemmo gli occhi che riflettevano il tramonto e che brillavano di un colore stranamente giallo mentre il corpo si volgeva di nuovo quindi si tuffò a vite rapidamente e in un baleno si immerse sottraendosi al nostro sguardo è una montra per Diana esclamammo insieme ridendo era davvero una lontra viva e in caccia eppure c'era sembrata proprio il corpo di un uomo affogato che si rivoltasse esanime nella corrente molto più a valle riaffiorò di nuovo e vedemmo la sua pelle nera bagnata e lucida alla luce del sole proprio allora mentre stavamo tornando indietro carichi di rami portati dalla corrente accadde un'altra cosa che ci richiamò alla sponda del fiume questa volta era davvero un uomo anzi un uomo in barca ora una barchetta sul danubio costituisce uno spettacolo insolito in qualsiasi momento ma lì in quella regione deserta e in periodo di piena era una cosa tanto inaspettata da costituire un vero avvenimento ci fermammo e spalancammo gli occhi non so se per la luce obliqua del sole o per i riflessi dell'acqua meravigliosamente illuminata ma in ogni caso mi riusciva difficile mettere bene a fuoco lo sguardo su quell'apparizione fuggibile sembrava comunque un uomo in piedi in una specie di barca dal fondo piatto che manovrava con un lungo remo mentre veniva spinto verso la sponda opposta ad una velocità stupefacente sembrava stesse guardando nella nostra direzione ma la distanza era troppo grande e la luce troppo incerta perché potessimo comprendere con chiarezza ciò che faceva mi sembrò che gesticolasse e facesse dei segni verso di noi la sua voce ci giunse attraverso l'acqua e ci gridava disperatamente qualcosa ma il vento la soffocava in modo tale che non si riusciva a capire una sola parola c'era qualcosa di curioso nell'intera apparizione un uomo una barca cenni voce che fece su di me un'impressione del tutto sproporzionata alla causa guarda esclamai si sta facendo il segno della croce credo che tu abbia ragione disse lo svedese riparandosi gli occhi con la mano e guardando l'uomo che si allontanava sembrò scomparire in un attimo dissolvendosi quasi nel mare di salici laddove il sole li illuminava nell'ansa del fiume trasformandoli in un grande e stupendo muro purpureo inoltre la nebbia aveva cominciato ad alzarsi e i contorni delle cose erano indistinti ma che cosa diavolo mai stava facendo quell'uomo al tramonto su questo fiume in piena dissi quasi a me stesso dove sta andando a quest'ora e che cosa mai voleva dire con quei segni e quelle urla pensi che volesse metterci in guardia contro qualcosa ha visto il nostro fumo e probabilmente ha pensato che fossimo degli spiriti rise il mio compagno questi ungheresi credono in ogni sorta di sciocchezze ricordi quella bottegaia di presburg che ci avvertiva che nessuno mette mai piede qui perché questo posto appartiene ad esseri estranei al mondo degli uomini penso che credano alle fate e anche agli spiriti elementali e magari anche ai demoni quel contadino nella barca visto per la prima volta in vita sua della gente su queste isole aggiunse dopo una piccola pausa e si è spaventato ecco tutto il tono dello svedese non era convincente nel suo modo di fare mancava qualcosa che gli era abituale notai subito il cambiamento mentre parlava senza riuscire tuttavia a definirlo esattamente se avessero sufficiente immaginazione dissi ridendo a voce alta ricordo che tentavo di fare più chiasso che potevo potrebbero ben popolare un posto come questo con tutti gli dei dell'antichità i romani devono aver riempito l'intera regione con i loro templi boschetti sacri e divinità degli elementi naturali l'argomento quindi cadde e tornamo alla nostra pentola perché in genere il mio amico non era molto portato alle conversazioni di tipo fantasioso inoltre ricordo che proprio in quel momento mi sentii decisamente contento che non avesse immaginazione il suo temperamento solido e pratico mi sembrò improvvisamente gradito e confortante era un temperamento ammirevole pensai sapeva governare la canoa giù per le rapide come un pelle rossa e schivare rocce minacciose e vortici meglio di qualunque altro bianco che avessi mai visto era un compagno splendido per un viaggio avventuroso una vera riserva inesauribile di energia quando sopravvenivano pericoli imprevisti guardai il suo viso forte dai capelli chiari e ricciuti mentre procedeva vacillando sotto la sua catasta di legna grande il doppio della mia e provai un senso di sollievo sì ero decisamente contento in quel momento che lo svedese fosse ciò che era e che non faceva mai osservazioni che intendessero dire più di quello che effettivamente dicevano il fiume sta continuando a salire aggiunse come se stesse seguendo i pensieri suoi mentre lasciava cadere il suo carico con un sospiro quest'isola si troverà sommersa tra un paio di giorni se continua così vorrei che almeno il vento calasse dissi non è il fiume che mi infastidisce la piena infatti non aveva terrori in serbo per noi potevamo partire con dieci minuti di preavviso e più era l'acqua più ci piaceva voleva dire una corrente più veloce e la scomparsa di quegli insidiosi banchi di ghiaia che tanto spesso avevano minacciato di lacerare il fondo della nostra canoa ma contrariamente alle nostre speranze il vento non calò al tramonto sembrò anzi aumentare con l'oscurità ululando sulle nostre teste e scuotendo i salici intorno a noi come pagliuzze curiosi rumori talvolta lo accompagnavano come colpi di cannone e batteva sull'acqua e sull'isola con grossi colpi piatti di immensa forza mi faceva pensare al rumore che deve fare un pianeta se potessimo udirlo che si lanci attraverso lo spazio il cielo tuttavia rimase completamente sgombro di nubi e subito dopo la cena a oriente si levò la luna piena che riversò sul fiume e sulla distesa di salici urlanti una luce simile a quella del giorno rimanemmo sdraiati sulla radura sabbiosa accanto al fuoco fumando ascoltando i rumori della notte intorno a noi e parlando allegramente del cammino già percorso e di quello che avevamo ancora dinanzi la carta geografica era distesa davanti alla tenda ma dato il forte vento era difficile studiarla e dopo poco abbassammo il telo d'ingresso e spegnemmo la lampada la luce del fuoco era sufficiente per fumare e per vedere i nostri visi mentre le scintille volavano verso l'alto come fuochi d'artificio pochi metri più oltre il fiume gorgogliava e sibilava e di tanto in tanto un rumore scrosciante annunciava la caduta in acqua di altri pezzi dell'argine i nostri discorsi notai riguardavano gli episodi e gli eventi lontani dei nostri primi campeggi nella foresta nera o altri argomenti del tutto staccati dall'ambiente attuale poiché nessuno di noi parlava del momento presente più di quanto fosse necessario come se avessimo convenuto tacitamente di evitare ogni accenno a questo accampamento e ai suoi incidenti né la lontra né il barcaiolo ad esempio ricevettero l'onore di un solo accenno sebbene in circostanze normali avrebbero fornito l'argomento di discussione per la maggior parte della serata tanto più che si trattava chiaramente di eventi eccezionali anche in un luogo come quello la poca legna da ardere rendeva un'impresa mantenere acceso il fuoco perché il vento che ci gettava il fumo sul viso dovunque sedessimo creava al tempo stesso una specie di tiraggio forzato decidemmo di compiere a turno delle spedizioni di rifornimento nell'oscurità e la quantità di legna che lo svedese riportava ogni volta mi faceva pensare che ci mettesse un tempo assurdamente lungo a trovarla ma il fatto era che non mi andava molto ad essere lasciato solo e tuttavia sembrava che fosse sempre il mio turno di trascinarmi tra i cespugli o di arrampicarmi lungo gli argini sdrucciolevoli sotto il chiaro di luna la lunga battaglia di quel giorno contro il vento e l'acqua e che vento e che acqua ci aveva stancati entrambi e l'ovvio programma era quello di andare a letto presto eppure nessuno di noi due si decideva ad andare verso la tenda stavamo lì a curare il fuoco chiacchierando a tratti guardando intorno a noi i fitti salici e porgendo l'udito al frastuono del vento e del fiume la desolazione del luogo ci era entrata sin nelle ossa e il nostro silenzio sembrava un fatto naturale tanto che dopo un poco il suono delle nostre voci divenne alquanto irreale e forzato la maniera più adatta di comunicare sarebbe stato il sussurro pensavo e la voce umana sempre un po' assurda nel ruggito degli elementi ora aveva quasi in sé qualcosa di illecito era come parlare a voce alta in una chiesa o in qualche luogo dove essere uditi non era permesso addirittura pericoloso il lugubre fascino di quell'isola solitaria che emergeva tra milioni di salici spazzata da un uragano e circondata da profonde acque emulinanti ci turbava entrambi immagino mai calpestata da piede umano e quasi sconosciuta giaceva lì sotto la luna lontana da influenze umane sulla frontiera di un altro mondo un mondo alieno abitato solo dai salici e dalle anime dei salici e noi con la nostra temerarietà avevamo osato invaderla e persino usarla qualcosa più forte del potere occulto del mistero si agitava dentro di me mentre giacevo lì sulla sabbia con i piedi vicini al fuoco e guardavo in alto attraverso le foglie verso le stelle mi alzai per l'ultima volta per andare a raccogliere legna appena il fuoco si spegne dissi con fermezza andrò a dormire il mio compagno mi guardò pigramente mentre mi allontanavo tra le ombre per essere un uomo di scarsa immaginazione pensai appariva insolitamente ricettivo quella sera insolitamente aperto alle suggestioni di cose diverse da quelle sensibili anche lui era evidentemente colpito dalla bellezza e dalla desolazione di quel luogo non fui del tutto compiaciuto ricordo di riconoscere quel lieve mutamento in lui e invece di mettermi subito a raccogliere arbusti mi avviai verso l'estrema punta dell'isola dove la luce della luna che brillava sulla pianura e sul fiume poteva essere contemplata nella maniera migliore mi era venuto improvvisamente il desiderio di restare solo il timore di prima mi aveva riafferrato e provavo una vaga sensazione che desideravo affrontare ed esaminare a fondo appena raggiunsi la punta sabbiosa che si spingeva tra le onde l'incantesimo di quel luogo si impadronì di me in maniera sconvolgente non poteva bastare un semplice panorama a produrre un tale effetto c'era qualcosa di più qualcosa che mi mise in allarme scrutai la distesa di acque ribollenti guardai i salici sussurranti udì l'incessante battere del vento instancabile e ciascuna e tutte queste cose ognuna a suo modo suscitò in me una sensazione di strana angoscia ma la cosa più singolare erano i salici senza posa continuavano a ciarlare e parlare tra di loro ridendo un poco gridando stridulamente e talvolta sospirando ma la causa di tutto questo loro armeggio apparteneva alla vita segreta della grande pianura che abitavano ed era qualcosa di completamente estraneo al mondo che conoscevo o a quello degli elementi naturali selvaggi ma non nemici mi fecero pensare ad una schiera di esseri venuti da un'altra dimensione vitale da un altro tipo di evoluzione forse che discutevano di un mistero noto soltanto a loro li guardavo avvicinarsi l'uno all'altro scuotere stranamente le loro grosse teste fronzute far piroettare le miriadi di foglie anche nelle pause del vento si muovevano di loro propria volontà come se vivessero e stuzzicavano per vie incomprensibili il mio acuto senso dell'orribile stavano lì al chiaro di luna come un immenso esercito che circondasse il nostro accampamento scuotendo innumerevoli lance argente in atto di sfida prima dell'attacco la psicologia dei luoghi almeno per chi ha un'immaginazione particolare è molto vivida per il vagabondo soprattutto i luoghi di campeggio hanno una loro nota o di benvenuto o di ostilità da prima può non essere sempre evidente perché le operazioni di preparazione della tenda e della cucina lo impediscono ma alla prima pausa di solito dopo cena quella sensazione sopraggiunge e si manifesta e la nota di questo campeggio tra i salici ora era indiscutibilmente chiara per me eravamo degli intrusi dei trasgressori non eravamo benvenuti quel senso di ostilità cresceva in me mentre stavo lì ad osservare eravamo giunti alla frontiera di un territorio in cui la nostra presenza suscitava risentimento potevamo forse essere tollerati per una sola notte di riposo ma per un soggiorno prolungato e curioso no per tutti gli dèi degli alberi e della solitudine no eravamo le prime presenze umane su quell'isola e non eravamo ben accetti i salici erano contro di noi pensieri strani come questi fantasie bizzarre nate non so dove si insinuarono nella mia mente mentre ero lì ad ascoltare e se dopo tutto pensai quei salici acquattati fossero davvero vivi creature dominate dagli dèi il cui territorio avevamo invaso e si fossero diretti in massa verso di noi dalle immense paludi avanzando nella notte per poi piombarci addosso mentre guardavo mi era facile immaginare che si muovessero realmente si avvicinassero furtivi poi si ritirassero un poco ammassati insieme ostili in attesa del grande evento che li avrebbe spinti infine a correre avrei potuto giurare che il loro aspetto cambiava e che le loro schiere si infittivano e si serravano il verso melanconico e acuto di un uccello notturno risuonò sopra di me ed un tratto persi quasi l'equilibrio quando il pezzo di argine sul quale mi trovavo cadde con un grande scroscio nel fiume strappato dalla piena feci un passo indietro appena in tempo e mi misi di nuovo a cercare legna da ardere quasi ridendo delle strane fantasie che si affollavano nella mia mente e che gettavano su di me il loro incantesimo ricordai l'osservazione dello svedese sull'opportunità di partire il giorno dopo e stavo appunto pensando che ero completamente d'accordo con lui quando mi voltai trasalendo e vidi l'oggetto dei miei pensieri che stava immediatamente dietro di me era proprio vicino l'urlo degli elementi aveva coperto il rumore del suo arrivo sei stato via tanto tempo gridò per superare il vento che ho pensato ti fosse successo qualcosa ma nel suo tono e nel suo sguardo c'era una sfumatura che mi fece comprendere il suo animo più delle sue effettive parole e in un lampo capì la vera ragione della sua venuta era perché l'incantesimo del luogo era entrato anche in lui e non gli andava di rimanere solo il fiume continua a salire gridò indicando la corrente illuminata dalla luna e il vento è semplicemente terribile ripeteva sempre le stesse cose ma era il suo disperato bisogno di compagnia che dava vera importanza alle sue parole per fortuna gli risposi gridando la nostra tenda si trova in quella conca credo che reggerà benissimo aggiunsi qualcosa sulla difficoltà di trovare legna per spiegare la mia assenza ma il vento si impadronì delle mie parole e le scagliò attraverso il fiume lui non poteva udirmi ma fece ugualmente un cenno d'assenso col capo attraverso i rami saremo fortunati se riusciremo ad andarcene senza disastri gridò o qualcosa del genere e ricordo che mi sentii quasi offeso con lui per aver formulato con le parole quel pensiero perché era esattamente ciò che pensavo io c'era in qualche modo un disastro imminente e quel presentimento non mi piaceva torniamo accanto al nostro fuoco e lo ravviviamo per un'ultima fiammata smuovendone le braci con i piedi guardammo in giro per un'ultima volta se non fosse stato per il vento il calore sarebbe stato eccessivo trasformai questo pensiero in parole e ricordo che la risposta del mio amico mi colpì stranamente disse che avrebbe preferito il calore la normale temperatura di luglio piuttosto che quel vento diabolico ogni cosa era pronta per la notte la canoa rivoltata a fianco della tenda con ambedue le pagaie gialle sistemate sotto il sacco delle provviste appeso ad un ramo di salice e i piatti lavati posti a distanza di sicurezza dal fuoco pronti per la colazione del mattino soffocammo le braci del fuoco con la sabbia ed entrammo nella tenda lasciamo alzato il telo d'ingresso e vedevo i rami le stelle e il chiaro di luna i salici tremanti e i forti colpi di vento contro la nostra piccola dimora furono le ultime cose che ricordai quando il sonno sopraggiunse e ricopri tutto col suo dolce e delizioso oblio capitolo secondo all'improvviso mi trovai sveglio che scrutavo dal mio giaciglio attraverso l'ingresso della tenda guardai l'orologio fissato al telo e vidi alla chiara luce lunare che era mezzanotte passata quasi la soglia di un nuovo giorno e che avevo perciò dormito per un paio d'ore lo svedese era ancora addormentato al mio fianco il vento urlava come prima e qualcosa mi serrava il cuore incutendomi un senso di paura c'era una strana inquietudine nelle immediate vicinanze mi sollevai a sedere e guardai fuori gli alberi oscillavano violentemente avanti e indietro ai colpi di vento ma la nostra piccola tenda verde se ne stava al sicuro nella conca perché il vento le passava sopra senza incontrare sufficiente resistenza per diventare pericoloso ma l'inquietudine comunque non scomparve e scivolai in silenzio fuori della tenda per controllare se le nostre cose erano al sicuro mi mossi cautamente per non svegliare il mio compagno ero in preda una curiosa agitazione ero quasi uscito inginocchiato e con le mani a terra quando il mio sguardo notò che le cime dei cespugli di fronte con il loro mobile merletto di foglie formavano delle strane sagome contro il cielo mi piegai sulle anche e fissai la scena era incredibile senza dubbio ma lì di fronte a me e leggermente in alto c'erano delle figure indistinte tra i salici e i rami oscillando al vento sembravano raggrupparsi intorno a queste forme costruendo una serie di profili mostruosi che si spostavano rapidamente sotto la luna erano vicine a circa 15 metri dinanzi a me il mio primo impulso fu quello di svegliare il mio compagno perché anche lui potesse vederle ma qualcosa mi fece esitare l'improvvisa certezza probabilmente che una conferma non mi sarebbe riuscita gradita rimasi accovacciato lì a fissare stupefatto con gli occhi che bruciavano ero completamente sveglio ricordo d'aver detto a me stesso che non stavo certo sognando le immense figure diventavano chiaramente visibili tra le chiome dei salici enormi color bronzo mobili e del tutto indipendenti dall'oscillare dei rami le vedevo nitidamente e notai ora che le esaminavo con maggiore calma che erano molto più grandi di forme umane che anzi qualcosa del loro aspetto le proclamava come niente affatto umane certamente non erano create dal movimento dei rami contro la luce lunare si muovevano in maniera autonoma si sollevavano verso l'alto in una ininterrotta corrente dalla terra al cielo scomparendo completamente appena raggiungevano il buio erano allacciate l'una all'altra e formavano una grande colonna vedevo le loro membra e i loro corpi in mani che si fondevano l'uno nell'altro creando una linea serpentina che si piegava oscillava e s'attorceva a spirale con le stesse contorsioni degli alberi battuti dal vento erano forme nude fluide che scaturivano dai salici quasi da dentro le foglie e si sollevavano in una colonna vivente verso il cielo non riuscì a scorgere i loro volti senza posa fluttuavano verso l'alto oscillando in grandi curve arcuate colorate di bronzo cupo guardavo fisso tentando di sforzare al massimo gli occhi per lungo tempo pensai che dovevano sparire da un momento all'altro e risolversi nei movimenti dei rami provando ad essere un'illusione ottica cercai in ogni direzione una prova di realtà ma capivo perfettamente che il criterio per giudicare la realtà era ormai mutato infatti più guardavo più certo diventavo che quelle figure erano reali e vive sebbene forse non secondo i criteri che la macchina fotografica e il biologo accetterebbero come validi anziché provare paura ero posseduto da un senso di meraviglia e di stupore quali non avevo mai provato mi sembrava di stare contemplando le forze degli elementi personificate di quella regione primitiva e abitata da fantasmi la nostra intrusione aveva ridestato le potenze occulte del luogo eravamo noi la causa del disordine e la mia mente si riempì sin quasi a scoppiarne di racconti e leggende di spiriti e divinità locali che sono stati accettati e adorati dagli uomini in tutte le epoche della storia del mondo ma prima che potessi giungere a qualche spiegazione plausibile qualcosa mi spinse a uscire all'aperto strisciai avanti sulla sabbia e mi rizzai in piedi senti il suolo ancora caldo sotto i piedi nudi il vento mi scompigliava i capelli e mi colpiva il viso e il rumore del fiume mi esplose nelle orecchie con un improvviso ruggito sapevo bene che quelle cose erano reali e provavano che i miei sensi funzionavano normalmente tuttavia le figure continuavano a sollevarsi dalla terra al cielo silenziose maestose in una grande spirale piena di grazia e di forza che mi sopraffece infine con un genuino profondo senso di adorazione senti che avrei dovuto prostrarmi e adorare sì proprio adorare e forse il minuto seguente l'avrei fatto davvero ma poi un colpo di vento mi colpi con tale forza che mi gettò di lato e quasi inciampai e caddi sembrò scuotermi di dosso il sogno scacciandolo con violenza fuori di me perlomeno mi fornì un altro punto di vista le figure rimanevano ancora ascendevano ancora verso il cielo dal cuore della notte ma finalmente la mia ragione cominciò a riconquistare se stessa doveva essere un'esperienza soggettiva mi dissi non meno reale per questo ma tuttavia soggettiva la luce lunare e i rami si univano nel produrre quelle figure sullo specchio della mia immaginazione e per qualche sconosciuta ragione le proiettavo fuori di me e le facevo apparire oggettive sapevo che doveva essere così naturalmente ero vittima di una vivida e straordinaria allucinazione mi feci coraggio e cominciai ad avanzare attraverso le zone aperte di sabbia ma per Giove era davvero un'allucinazione era soltanto soggettiva non discuteva forse la mia ragione nella vecchia maniera partendo dai criteri limitati che conosceva so soltanto che la grande colonna di figure ascendeva oscuramente nel fondo del cielo per quello che mi parve un periodo di tempo lunghissimo e con un'apparenza molto completa di realtà almeno secondo il metro con il quale la maggior parte degli uomini è abituata a misurare la realtà poi improvvisamente scomparvero e non appena furono andate via e fu passata l'immediata meraviglia della loro grande presenza la paura si avventò su di me come una gelida folata il significato esoterico di quella regione solitaria e infestata improvvisamente prese vita come una fiamma dentro di me e cominciai a tremare lanciai un rapido sguardo intorno uno sguardo d'orrore che si avvicinava al panico valutando in vano le possibili vie di fuga quindi resumi conto della mia incapacità di fare alcunché di efficace scivolai silenziosamente nella tedda e mi distesi di nuovo nel mio materasso sabbioso ma prima abbassai il telo d'ingresso per escludere la vista dei salici illuminati dalla luce lunare e poi nascosi il capo il più profondamente possibile sotto le coperte per attutire il rumore di quel vento terrificante capitolo terzo quasi per convincermi che non avevo sognato ricordo che passò diverso tempo prima che ricadessi in un sonno agitato e inquieto e anche allora soltanto la mia crosta esterna dormiva sotto c'era qualcosa che non perse mai completamente coscienza ma rimaneva vigile e in guardia una seconda volta tuttavia saltai su con un vero trasalimento di terrore non fu né il vento né il fiume che mi svegliarono ma il lento avvicinarsi di qualcosa che indusse la porzione di me addormentata a diventare sempre più piccola sino a quando svanì del tutto e mi ritrovai seduto rigidamente ad ascoltare fuori c'era il suono zampettante di una moltitudine di passi sapevo che avevano continuato ad avvicinarsi già da lungo tempo e solo ora nel mio sonno erano divenuti percepibili rimasi seduto completamente sveglio ma nervoso come se non avessi dormito affatto mi sembrava di respirare con difficoltà e che ci fosse un grosso peso su tutta la superficie del mio corpo malgrado la notte fosse calda mi sentivo coperto di sudore freddo e rabbrividivo certo qualcosa stava premendo con forza contro i lati della tenda e la schiacciava dall'alto era il vento era la pioggia scrosciante a causare quello zampettio oppure lo sgocciolare delle foglie oppure erano gli spruzzi lanciati dal fiume che si raccoglievano in grosse gocce pensai rapidamente ad una dozzina di soluzioni poi all'improvviso la spiegazione mi balzò alla mente un ramo del pioppo l'unico grosso albero dell'isola doveva essere caduto per il vento ancora trattenuto dagli altri rami sarebbe caduto alla prossima folata e ci avrebbe schiacciato e intanto le sue foglie strisciavano e picchiettavano sulla superficie tesa della tenda allora alzai il telo d'ingresso e mi precipitai fuori chiamandolo svedese perché mi seguisse ma quando fui fuori e mi rizzai in piedi vidi che la tenda era libera non c'era nessun ramo pendente non c'erano pioggia né spruzzi e nulla si stava avvicinando una fredda luce cinerea filtrava attraverso i salici e cadeva sulla sabbia rilucente le stelle si affollavano ancora nel cielo direttamente su di noi e il vento urlava grandioso ma il fuoco non emetteva più alcun bagliore e vidi attraverso gli alberi l'oriente che si arrossava in lunghe strisce dovevano essere passate diverse ore dal momento in cui ero stato lì a contemplare le figure ascendenti e quel ricordo mi tornò ora orribile come un sogno diabolico come mi faceva sentire stanco quell'incessante e rabbioso vento tuttavia sebbene la profonda stanchezza di una notte insonne fosse in me i miei nervi fremevano di una prensione altrettanto instancabile e ogni idea di riposo era fuori luogo vidi che il fiume si era ancora più gonfiato il suo tuono riempiva l'aria e i suoi spruzzi polverizzati si facevano sentire attraverso la mia camicia leggera in nessun luogo tuttavia scoprì la minima prova di qualcosa che potesse causare allarme l'inquietudine profonda e prolungata del mio spirito rimaneva senza spiegazione il mio compagno non si era mosso quando l'avevo chiamato e non c'era bisogno di chiamarlo adesso mi guardai intorno attentamente osservando ogni cosa la canoa rivoltata le pagaie gialle che erano certamente due il sacco delle provviste e l'altra lanterna appesi insieme all'albero e dappertutto intorno a me i salici gli infiniti salici frementi un uccello fece udire il suo grido mattutino e una fila di anatre passò in alto nel crepuscolo con un roteante batter d'ali la sabbia mossa dal vento formava mulinelli asciutti e pungenti intorno ai miei piedi nudi girai attorno alla tenda e mi addentrai un poco tra gli arbusti in modo da poter guardare attraverso il fiume verso l'orizzonte più lontano e la stessa profonda e indefinibile sensazione di angoscia mi prese di nuovo di fronte a quell'interminabile mare di salici che si stendeva all'orizzonte con loro aspetto lugubre e irreale nella livida luce dell'alba mi aggirai lentamente di qua e di là ancora perplesso per quello strano suono di infiniti piccoli passi e per quella pressione sulla tenda che mi avevano svegliato doveva essere stato il vento pensai il vento che batteva sulla sabbia calda e spingeva i granelli asciutti con forza contro la tenda tesa il vento che cadeva pesantemente sul nostro fragile tetto eppure la mia irrequietezza e il mio disagio continuavano a crescere mi spinsi fino alla sponda più lontana e notai come la linea della costa era cambiata durante la notte il fiume aveva strappato via altre masse di sabbia immersi mani e piedi nella fresca corrente e mi bagnai la fronte c'era già il chiarore dell'alba nel cielo e si avvertiva la squisita freschezza del giorno imminente sulla via del ritorno passai di proposito proprio sotto la macchia di salici sui quali avevo visto la colonna di figure alzarsi nel cielo e quando fui a metà strada tra quelli più fitti mi trovai improvvisamente sopraffatto da un senso di profondo terrore una grande figura uscì dalle ombre e passò oltre rapida qualcuno mi incrociò ne sono assolutamente sicuro un grande colpo di vento mi aiutò ancora una volta a proseguire e appena fui in uno spazio più aperto il senso di terrore diminuì stranamente i venti si aggiravano fra i salici ricordo d'aver detto a me stesso poiché i venti spesso si muovono come grandi presenze sotto gli alberi e la paura che mi alleggiava intorno era un genere così sconosciuto e immenso di paura così dissimile da tutto ciò che avevo mai provato prima che suscitò in me un senso di stupore e meraviglia che contribuì a combatterne gli effetti peggiori e quando raggiunsi un punto più alto al centro dell'isola dal quale potevo vedere la lunga distesa del fiume purpureo alla luce dell'alba la grande la sua magica bellezza divenne così irresistibile che una specie di selvaggia commozione si risvegliò in me e quasi mi fece salire in gola un grido ma quel grido non trovò espressione perché mentre i miei occhi vagavano dalla pianura oltre il fiume all'isola intorno a me e alla nostra piccola tenda mezza nascosta fra i salici feci una scoperta spaventosa di fronte alla quale il mio terrore per i venti che camminavano sembrava una cosa da nulla un cambiamento mi accorsi era in qualche modo sopravvenuto nell'aspetto del paesaggio non era la mia posizione a offrirmi un punto di vista differente ma un'alterazione si era verificata nella relazione della tenda con i salici e dei salici con la tenda adesso senza dubbio i cespugli si affollavano molto più vicini incredibilmente orribilmente vicini si erano mossi avanzando con passi silenziosi sulle instabili sabbie avvicinandosi impercettibilmente con movimenti lenti e calmi i salici erano venuti a stringerci da presso durante la notte ma era stato il vento a muoverli o si erano mossi da soli ricordai il suono di infiniti piccoli passi e la pressione sulla tenda e sul mio cuore che mi avevano fatto svegliare per il terrore barcollai al vento per un istante come un albero faticando a mantenermi dritto su quella collinetta sabbiosa era la manifestazione di una volontà personale di una deliberata intenzione di un'ostilità aggressiva e mi atterriva al punto di irrigidirmi le membra poi folgorante venne la reazione l'idea era così bizzarra così assurda che provai l'impulso di ridere ma il riso cessò prima di nascere come il grido perché il sapere che la mia mente era così ricettiva a fantasie pericolose portò con sé un altro terrore l'attacco sarebbe venuto attraverso le nostre menti non attraverso i nostri corpi fisici e stava arrivando il vento mi frustava da ogni lato e troppo velocemente così mi parve il sole superò l'orizzonte infatti erano passate le quattro e dovevo essere rimasto su quel piccolo pinnacolo di sabbia più a lungo di quel che credessi timoroso di scender giù a distanza ravvicinata con i salici ritornai in silenzio strisciando alla tenda dopo aver prima dato un altro sguardo esauriente intorno e sì lo confesso prendendo le misure misurai con i passi sulla sabbia calda le distanze tra i salici e la tenda prendendo nota in particolare della distanza più breve mi infilai di nuovo furtivamente sotto le coperte il mio compagno a quanto pareva dormiva ancora tranquillo e fui contento di questo finché le mie esperienze non fossero confermate da altri potevo in qualche modo trovare la forza di negarle forse alla luce del giorno potevo persuadermi che tutto era stato un'allucinazione soggettiva una fantasia notturna una proiezione dell'immaginazione eccitata null'altro venne a disturbarmi e caddi addormentato quasi subito completamente esausto ma tuttavia col timore di udire ancora quel magico suono di innumerevoli piccoli passi o di sentire sul cuore la pressione che mi aveva reso difficile il respiro capitolo quarto il sole era alto nel cielo quando il mio compagno mi svegliò da un sonno profondo e mi annunziò che il porridge era pronto e che c'era appena il tempo per lavarsi l'odore gradevole della pancetta che si arricciava al fuoco entrava nella tenda il fiume continua a crescere disse e diverse isole che erano in mezzo alla corrente sono completamente scomparse e la nostra stessa isola è molto più piccola c'è rimasta della legna chiesi a sonnato sia la legna che l'isola domani finiranno nel fiume rise ma ce n'è a sufficienza sino a questo momento mi tuffai dalla punta dell'isola che era davvero cambiata parecchio in dimensioni e forma durante la notte e in un attimo fui trascinato sino alla spiaggia su cui eravamo sbarcati all'altezza della tenda l'acqua era gelida e le rive mi volarono accanto come un panorama visto da un treno espresso fare il bagno in simili condizioni era un'esperienza esaltante e il terrore della notte sembrava essersi dileguato come se fosse evaporato dalla mente il sole era caldissimo e nemmeno una nuvola era visibile il vento tuttavia non si era attenuato per nulla all'improvviso il significato implicito delle parole dello svedese mi lampeggiò nella mente rivelandomi che non desiderava più partire in tutta fretta e che aveva cambiato parere aveva detto a sufficienza sino a domani dunque pensava che avremmo dovuto rimanere sull'isola per un'altra notte mi colpì come una cosa strana la sera precedente era deciso ad andarsene perché era avvenuto quel mutamento durante la colazione continuarono a crollare gli argini con grande rumore e nuvole di spruzzi che il vento portò sin nella nostra padella intanto il mio compagno di viaggio parlava senza posa della difficoltà che i vaporetti della linea Vienna-Pest dovevano affrontare per trovare il ramo giusto del fiume in quella piena ma il suo stato d'animo mi interessava e mi impressionava molto di più che le condizioni del fiume o le difficoltà dei vaporetti i suoi modi erano cambiati dalla sera prima era diverso leggermente eccitato un po' esitante con una sorta di sospetto nella voce e nei gesti non so come descriverlo ora a sangue freddo ma in quel momento ricordo d'essere stato certissimo d'una cosa avevo cominciato ad avere paura mangiò molto poco a colazione e per la prima volta non accese la pipa aveva la carta geografica aperta e distesa accanto a lui e continuava a studiarla faremmo bene a partire entro un'ora dissi infine cercando di indurlo a una parziale confessione e la sua risposta mi lasciò spiacevolmente sconcertato magari se ce lo permetteranno chi dovrebbe permetterlo gli elementi chiesi immediatamente con affettata indifferenza le potenze di questo luogo spaventoso quali che esse siano rispose mantenendo gli occhi sulla mappa gli dei sono qui certamente se si trovano in una qualche parte del mondo gli elementi sono sempre i veri immortali replicai ridendo con la maggior naturalezza possibile pur sapendo molto bene che il mio viso rifletteva i miei veri sentimenti quando lo svedese alzò lo sguardo su di me gravemente e parlò attraverso il fumo saremo fortunati se riusciremo ad andarcene senza altri disastri questo era proprio ciò che avevo temuto e dovetti raccogliere tutto il mio coraggio per formulare una domanda diretta era come decidersi di permettere al dentista di estrarre il dente doveva pur venire via alla fine il resto era tutta finzione altri disastri perché che cosa è accaduto tanto per cominciare la pagaia timoniera non c'è più rispose a voce bassa non c'è più la pagaia timoniera ripetei molto eccitato perché serviva a dirigere la canoa e affrontare il danubio in piena senza timone significava suicidio ma cosa e poi c'è uno squarcio nel fondo della canoa aggiunse con un autentico tremito nella voce continuai a guardarlo ad occhi spalancati capace soltanto di ripetere le sue parole come un ebete lì nel calore del sole su quella sabbia rovente mi resi conto che un'atmosfera di gelo era scesa su di noi mi alzai per seguirlo perché si limitò a un grave cenno del capo e mi fece strada verso la tenda a pochi metri dall'altro lato del fuoco la canoa giaceva ancora lì come l'avevo vista durante la notte rivoltata con le pagaie o piuttosto la pagaia sulla sabbia lì accanto ce n'è solo una disse chinandosi a prenderla ed ecco lo squarcio sul fondo stavo per dirgli che avevo chiaramente visto due pagaie poche ore prima ma un impulso immediato mi fece rinunziare e non dissi nulla mi avvicinai per guardare c'era una falla lunga e netta sul fondo della canoa dove una piccola scheggia di legno era stata strappata decisamente come se il dente di una roccia aguzza l'avesse morso in lunghezza e un attento esame mostrò che il foro attraversava il fondo se avessimo lanciato in acqua la canoa senza accorgercene saremmo inevitabilmente andati a fondo da prima l'acqua avrebbe fatto gonfiare il legno sino a otturare il foro ma appena giunti in mezzo alla corrente sarebbe entrata con violenza e la canoa che non era mai a più di 5 centimetri sulla superficie dell'acqua si sarebbe riempita molto rapidamente questo vedi è un tentativo di preparare una vittima per il sacrificio sentì dire lo svedese più a se stesso che a me o meglio due vittime aggiunse chinandosi e passando le dita sul taglio cominciai a fischiettare cosa che faccio sempre automaticamente quando sono sconcertato e di proposito non prestai attenzione alle sue parole ero deciso a considerarle sciocchezze il danno non c'era ieri sera disse quindi alzandosi dopo aver terminato il suo esame ed evitando di guardarmi dobbiamo averla sfondata nel trarla a riva naturalmente dissi smettendo di fischiare le pietre sono molto aguzze mi fermai di colpo perché in quel momento lo svedese si voltò e mi fissò negli occhi sapevo bene quanto lui che la mia spiegazione era assurda non c'erano pietre tanto per cominciare e poi c'è da spiegare anche questo aggiunse con calma apparente orgendomi la pagaia e indicandone la pala quando la presi e la esaminai una nuova bizzarra emozione si diffuse dentro di me in maniera agghiacciante la pagaia era raschiata in tutta la sua lunghezza raschiata con cura come se qualcuno l'avesse passata a lungo con la carta vetrata rendendola tanto sottile che il primo colpo vigoroso l'avrebbe spezzata uno di noi due deve essere sonnambulo e ha fatto questo dissi debolmente o o è stata limata dall'attrito continuo dei granelli di sabbia soffiati dal vento forse ah fece lo svedese voltandosi con una breve risata tu riesci a spiegare ogni cosa il vento ha preso anche la pagaia timoniera e l'ha gettata tanto vicino all'argine che è caduta nel fiume insieme ad un pezzo di sponda gli gridai dietro assolutamente deciso a trovare una spiegazione per qualsiasi cosa mi mostrasse capisco mi gridò in risposta voltando il capo per guardarmi prima di scomparire tra i salici appena rimasi solo con quelle sconcertanti prove di un intervento deliberato credo che il mio primo pensiero fu uno di noi due deve aver fatto questo e certamente non sono stato io ma il mio secondo pensiero decise che era impossibile supporre tenuto conto di tutte le circostanze che potesse averlo fatto uno di noi che il mio compagno l'amico fidato di una dozzina di spedizioni simili potesse coscientemente aver fatto cose del genere era un'idea che non reggeva nemmeno per un momento e ugualmente assurda sembrava l'ipotesi che quell'uomo pratico e imperturbabile fosse improvvisamente impazzito dandosi a gesti inconsulti un fatto peraltro rimaneva ciò che mi turbava di più e manteneva viva la mia paura persino nella luce accecante del sole e in quel panorama di selvaggia bellezza era la chiara evidenza che un curioso mutamento era sopravvenuto proprio nella sua mente era diventato nervoso esitante sospettoso conscio di avvenimenti di cui non parlava eventi segreti e sino a quel momento innominabili sembrava aspettare in una parola una crisi da lui attesa e pensai attesa anche a breve scadenza tutto questo si sviluppò nella mia mente per via intuitiva non so come feci un esame affrettato della tenda e della zona vicina le misurazioni prese durante la notte erano rimaste invariate c'erano cavità profonde nella sabbia e le notavo per la prima volta avevano forma di bacinelle di varie profondità e dimensioni da quelle di una tazza di tè a quelle di un catino senza dubbio il vento era responsabile di quei crateri in miniatura così come doveva aver sollevato la pagaia e averla gettata nell'acqua lo squarcio nella canoa era la sola cosa che sembrava assolutamente inesplicabile anche se dopo tutto poteva essere preconcepibile che una punta a guzza l'avesse colpita quando avevamo approdato l'esame che feci della riva non confermò questa teoria ma ugualmente mi aggrappai ad essa con quella decrescente porzione della mia intelligenza che chiamavo ragione era assolutamente necessario trovare una spiegazione così come necessaria una qualche spiegazione pratica dell'universo per quanto assurda alla felicità di ogni individuo che cerca di fare il proprio dovere nel mondo e di affrontare i problemi dell'esistenza sul momento quel paragone mi sembrò un parallelo esatto misi a sciogliere la pece e subito lo svedese si unì a me nel lavoro però pur nelle migliori condizioni la canoa non avrebbe potuto essere pronta ad un viaggio sicuro prima del giorno seguente attirai casualmente la sua attenzione sulle cavità nella sabbia sì disse lo so sono su tutta l'isola ma senza dubbio tu riesci a spiegarle è stato il vento naturalmente risposi senza esitare non hai visto quei piccoli turbini per la strada che avvolgono e sollevano ogni cosa in cerchio questa sabbia è tanto mobile che cede ecco tutto non rispose e lavorammo in silenzio per un poco lo tenevo continuamente d'occhio senza averne l'aria e mi parve che anche lui mi sorvegliasse sembrava inoltre che stesse ascoltando attentamente qualcosa che non riuscivo a sentire o forse qualcosa che si aspettava di udire perché continuava a voltarsi a guardare tra i cespugli e poi su nel cielo e verso l'acqua dove era visibile qua e là tra i salici talvolta accostava la mano all'orecchio e ve la teneva per diversi minuti non mi disse nulla comunque e io non gli feci domande intanto riparava la canoa danneggiata con l'abilità e il piglio di un pelle rossa fui felice di notare il suo impegno nel lavoro perché nel mio cuore c'era la vaga paura che mi parlasse del mutato aspetto dei salici perché se aveva notato anche quello non avrei più potuto spiegare tutto soltanto come effetto della mia immaginazione alla fine dopo una lunga pausa cominciò a parlare strano disse con una voce curiosamente affrettata come se volesse dire qualcosa e farla finita è strano voglio dire che abbiamo visto quella lontra ieri sera mi ero aspettato qualcosa di completamente diverso la sua osservazione mi colse di sorpresa e sollevai bruscamente lo sguardo dimostra quanto è solitaria questa zona le lontre sono animali molto timidi non volevo dire questo naturalmente interruppe intendevo dire tu pensi hai pensato che fosse realmente una lontra e che altro poteva essere in nome di dio che altro sai l'ho avvistata prima di te e sulle prime sembrava molto più grande di una lontra mentre guardavi la luce del tramonto te l'avrà fatta sembrare più grossa o qualcosa del genere risposi lo svedese mi guardò con aria assente per un momento come se fosse occupato in altri pensieri aveva quegli occhi così straordinariamente gialli continuò quasi tra sé anche quello era un effetto del sole risi un po' ostentatamente immagino che tra poco ti chiederai se quel tizio sulla barca lasciai a mezzo la frase era di nuovo nell'atto di ascoltare volgendo il capo verso il vento e qualcosa nell'espressione sul suo volto mi fermò l'argomento cadde e continuamo a lavorare apparentemente non aveva notato la mia frase interrotta ma cinque minuti dopo mi guardò al di sopra della canoa con la pece fumante in mano e il volto straordinariamente serio in effetti mi sono davvero chiesto se vuoi saperlo fece lentamente che cosa ci fosse su quella barca ricordo d'aver pensato sul momento che non era un uomo mi è sembrato che fosse nato improvvisamente dall'acqua gli risi di nuovo in faccia sempre con ostentazione ma questa volta c'era dell'impazienza e anche una punta di rabbia in ciò che sentivo senti un po' gridai questo luogo è abbastanza strano senza che ci diamo da fare noi stessi a immaginare sciocchezze quella barca era una normale barca e l'uomo che c'era dentro era un uomo normale e tutte e due stavano scendendo giù per la corrente più in fretta che potevano e quella lontra era proprio una lontra non mettiamoci a fare gli stupidi mi guardò fisso con la stessa espressione grave non era affatto seccato presi coraggio dal suo silenzio e poi per amor di dio seguitai non continuare a fingere di sentire chissà cosa perché riesci solo a farmi rabbrividire e non c'è nulla da sentire eccetto il fiume e questo maledetto e terribile vento sei uno sciocco replicò con una voce bassa e sconvolta sei davvero uno sciocco sono le vittime che parlano come te come se tu non avessi già capito come ho capito io aggiunse una nota di disprezzo nella voce e una specie di rassegnazione la cosa migliore che puoi fare è stare zitto e tentare di mantenere la tua mente più salda che puoi questo debole tentativo di illuderti servirà solo a rendere la verità più dura quando sarai obbligato ad affrontarla il mio piccolo sfogo si esaurì e non trovai più nulla da dire perché sapevo benissimo che le sue parole erano vere e che ero io lo sciocco non lui sino ad un certo punto in quell'avventura lo svedese era andato più avanti di me e credo mi sentissi seccato di essere quasi tagliato fuori di dimostrarmi così meno pronto meno sensibile di lui verso quegli eventi straordinari e quasi ignaro di ciò che stava accadendo sotto il mio naso apparentemente lui aveva capito tutto fin dall'inizio ma in quel momento mi sfuggì il significato delle sue parole sulla necessità di una vittima e il fatto che le vittime avremmo potuto essere proprio noi da quel momento lasciai cadere ogni finzione e la mia paura andò crescendo costantemente sino al parossismo però hai completamente ragione su una cosa aggiunse prima di lasciar cadere l'argomento e cioè che facciamo bene a non parlarne o persino a pensarci perché ciò che si pensa trova espressione nelle parole e ciò che si dice accade quella sera mentre la canoa si asciugava e si induriva passiamo il tempo tentando di pescare collaudando la tenuta del foro otturato raccogliendo legna e guardando l'enorme fiumana di acqua crescente talvolta passavano vicino alle nostre rive masse di legname portate dalla corrente e cercavamo di uncinarle con lunghi rami di salice l'isola diventava più piccola a vista d'occhio via via che gli argini venivano strappati via fra tonfi e schizzi il tempo si era mantenuto splendido fino a circa alle 4 quando per la prima volta in tre giorni il vento aveva dato segno di volersi calmare a sud ovest cominciarono a raccogliersi le nubi e da lì iniziarono ad allargarsi lentamente nel cielo il calare del vento fu per noi un grande sollievo perché i suoi incessanti rugiti scoppi tuoni ci avevano irritato i nervi tuttavia il silenzio improvviso che sopraggiunse verso le 5 fu in certo modo altrettanto opprimente il rombo del fiume divenne allora completamente padrone riempiva l'aria di mormori profondi più musicali dei rumori del vento ma infinitamente più monotoni il vento aveva molte note crescenti calanti ritmando sempre una specie di grande motivo elementare mentre il canto del fiume oscillava fra tre note al massimo note ottuse gravi che celavano una qualità lugubre estranea al vento e che in qualche modo mi parevano nelle mie condizioni nervose di allora suggerire con estrema chiarezza una musica di condanna era straordinario inoltre osservare come la scomparsa improvvisa della luce del sole avesse fatto sparire dal panorama tutto ciò che poteva procurare allegria e poiché quel panorama in particolare era già riuscito a far nascere la suggestione di qualcosa di sinistro il mutamento fu tanto più spiacevole ed evidente per me lo so bene l'atmosfera che si andava oscurando divenne sempre più allarmante e mi scoprì d'una volta a calcolare quanto tempo dopo il tramonto la luna piena sarebbe sorta ad oriente e se le nubi che si andavano ammassando le avrebbero impedito di illuminare la nostra piccola isola nel generale affievolirsi del vento sebbene si abbandonasse ancora di tanto in tanto a brevi folate mi sembrò che il fiume diventasse più nero e che i salici si stringessero insieme più fitti questi ultimi avevano intanto mantenuto un loro proprio movimento indipendente stormendo tra di loro anche quando il vento era immobile e scuotendosi stranamente dalle radici in su quando gli oggetti comuni divengono in tal maniera carichi di suggestioni d'orrore stimolano l'immaginazione molto più che le cose di aspetto insolito ecco i cespugli affollantisi pigiati intorno a noi assunsero per me nell'oscurità un'apparenza bizzarra di grotescherie che attribuì loro in qualche modo l'aspetto di creature viventi e decise ad agire proprio il loro carattere di normalità assentivo mascherava ciò che avevano di maligno e ostile verso di noi le forze di quella regione si stavano avvicinando col cadere della notte si concentravano sulla nostra isola e più particolarmente su di noi così alla luce dell'immaginazione si presentavano le mie sensazioni con effetti indescrivibili in quel luogo straordinario avevo dormito parecchio nel primo pomeriggio e mi ero così ripreso dalla stanchezza di una notte agitata ma apparentemente questo servì soltanto a rendermi più suscettibile di prima alla magia di quell'ossessionante incantesimo lottai ridendo di ciò che sentivo come assurdo e puerile con spiegazioni psicologiche banali e tuttavia a dispetto di ogni sforzo quel fascino malvagio guadagnava forza su di me così che temevo la notte come un bambino smarrito in una foresta può temere l'appressarsi dell'oscurità avevamo coperto accuratamente la canoa con un telo impermeabile durante il giorno e l'unica pagaia rimasta era stata saldamente legata dallo svedese al tronco di un albero perché il vento non ci rubasse anche quella dalle cinque in poi mi occupai della pentola e dei preparativi per la cena perché quella sera era il mio turno di cucina avevamo patate cipolle pezzetti di grasso di pancetta per migliorare il sapore e un denso fondo di cottura rimasto da altri stufati precedenti con l'aggiunta di pezzi di pane nero il risultato sarebbe stato eccellente seguito da prugne cotte con lo zucchero e tè forte con latte in polvere una bella catasta di legna giaceva lì vicino e l'assenza di vento facilitava i miei doveri il mio compagno sedeva guardandomi pigramente occupato a pulire la pipa e a darmi i consigli inutili privilegio questo riconosciuto a quello di noi due che era a riposo era rimasto molto silenzioso per tutto il pomeriggio occupato a calafatare la canoa a rafforzare le funi della tenda e a pescare rami nel fiume mentre dormivo tra noi non c'erano più stati discorsi su argomenti indesiderabili e credo che le sue sole osservazioni riguardassero la graduale distruzione dell'isola che secondo lui era ormai di un buon terzo più piccola di quando vi avevamo approdato la pentola aveva appena cominciato a borbottare quando udì la sua voce chiamarmi dall'argine dove si era recato senza che me ne accorgessi corsi da lui vieni a sentire disse e dimmi un po' che cosa ne pensi teneva la mano a conchiglia sull'orecchio come aveva fatto spesso ora senti niente chiese guardandomi in modo strano rimanemmo lì ad ascoltare insieme da prima udì soltanto la nota profonda dell'acqua e i sibili che si levavano dalla sua turbolenta superficie i salici una volta tanto erano immobili e silenziosi poi un suono cominciò a raggiungere debolmente le mie orecchie un suono peculiare qualcosa come la remota vibrazione di un gong sembrava raggiungerci nell'oscurità dalla distesa di paludi e salici di fronte a noi si ripeteva a intervalli regolari ma non era certamente né il suono di una campana né la sirena di un vaporetto lontano riesco a paragonarlo solo al suono di un immenso gong sospeso in alto nel cielo che ripeteva senza posa la sua smorzata nota metallica bassa e musicale battuta insistentemente il mio cuore mentre ascoltavo aumentò i suoi battiti è tutto il giorno che la sento disse il mio compagno mentre dormivi nel pomeriggio veniva da tutto intorno all'isola sembrava quasi volesse scovarla ma non riusciva mai ad avvicinarsi abbastanza per vederla per localizzarla esattamente intendo talvolta era sopra l'isola talvolta sembrava sott'acqua una volta o due anzi avrei potuto giurare che non era affatto fuori ma addirittura dentro di me sai nella maniera in cui si dice debba giungere un suono dalla quarta dimensione ero troppo sconcertato per prestare completa attenzione alle sue parole ascoltavo attentamente tentando di associare quel suono con un qualunque rumore familiare e noto al quale riuscissi a pensare ma senza riuscirvi cambiava anche direzione venendo più vicino e poi disperdendosi in lontananza non posso dire che fosse di timbro sgradevole perché anzi mi sembrava molto musicale ma devo ammettere che faceva nascere una sensazione d'angoscia che mi faceva desiderare di non averlo mai udito è il vento che soffia in quegli imbuti di sabbia dissi deciso a trovare una spiegazione o forse sono i salici che battono l'uno contro l'altro dopo la tempesta viene da tutta la palude replicò il mio amico viene contemporaneamente da tutte le direzioni non aveva fatto caso alle mie spiegazioni viene dalle macchie di salici ma ora il vento è calato obiettai i salici non possono far rumore da soli no? la sua risposta mi spaventò innanzitutto perché l'avevo temuta e in secondo luogo perché sapevo intuitivamente che era vera è proprio perché il vento è calato che ora lo sentiamo prima era sommerso è il grido credo dei mi lanciai indietro verso il fuoco avvertito dal suo borbottio che lo stufato era in pericolo e deciso al tempo stesso a sottrarmi ad ogni ulteriore conversazione ero risoluto se possibile ad evitare altri scambi di idee temevo pure che lo svedese avrebbe ricominciato di nuovo a parlare di divinità o di forze naturali o di qualcos'altro di inquietante e volevo mantenermi pronto a ciò che poteva accadere più tardi c'era un'altra notte da affrontare prima di poter fuggire da quel luogo spaventoso e non si poteva dire cosa ci avrebbe riservato vieni a tagliare il pane per la pentola gli gridai rimestando vigorosamente l'appetitoso miscuglio in quella pentola c'era l'equilibrio mentale per entrambi e il pensarlo mi fece sorridere lo svedese tornò lentamente e staccò il sacco delle provviste dall'albero armeggiando nelle sue misteriose profondità poi ne vuotò l'intero contenuto sul telo ai suoi piedi fa presto gridai sta bollendo lo svedese scoppiò in una risata che mi fece trasalire era un riso forzato non esattamente artificiale ma senza allegria non c'è nulla qui disse sostenendo i lati del sacco il pane se n'è andato non c'è pane l'hanno preso lasciai cadere il lungo cucchiaio e corsi da lui ogni cosa che il sacco aveva contenuto era sul telo ma non c'era più la pagnotta tutto il peso morto della paura crescente mi cadde addosso e mi scosse poi anch'io scoppiai a ridere era la sola cosa da fare e il suono della mia risata mi fece comprendere anche quello della sua la tensione di una specie di pressione fisica aveva fatto nascere quelle esplosioni di riso innaturale in entrambi erano forze represse che tentavano di cercare sollievo era una temporanea valvola di sicurezza e cessò di colpo per entrambi che stupido sono stato esclamai ancora deciso ad essere coerente e a trovare una spiegazione ho dimenticato di comprare una pagnotta a presburg quella bottegaia chiacchierona mi ha fatto passare tutto di mente devo averla lasciata sul banco anche la farina di avena è molto di meno di questa mattina interruppe lo svedese perché mai deve attirare la mia attenzione su questo pensai con irritazione ce n'è abbastanza per domani dissi rimestando vigorosamente e potremo comprarne quanta ne vogliamo a Comorn o a Gran tra 24 ore saremo a molti chilometri da qui lo spero con l'aiuto di Dio mormorò lui riponendo tutto nel sacco a meno che non ci vogliano prima come vittime per il sacrificio aggiunse con un riso sciocco trascinò il sacco nella tenda per maggior sicurezza credo e lo udì borbottare tra sé e sé ma così indistintamente che mi sembrò naturale fingere di non sentire le sue parole il nostro fu senza alcun dubbio un pasto tetro e lo consumammo quasi in silenzio evitando lo sguardo dell'altro mentre tenevamo vivo il fuoco poi lavamo le stoviglie e ci preparamo per la notte quando ci mettemmo a fumare con le menti libere da compiti ben definiti la prensione che avevo provato per tutta la giornata divenne ancora più acuta non era ancora paura attiva credo ma proprio il carattere vago della sua origine mi agitava molto di più che se avessi potuto individuarla e affrontarla decisamente il suono bizzarro che ho paragonato alla nota di un gong divenne quasi incessante e riempiva la calma della notte con un eco debole e continua più che con una serie di note distinte talvolta era dietro talvolta dinanzi a noi talvolta mi sembrava provenisse dai salici alla nostra sinistra e poi dalle macchie alla nostra destra più spesso aleggiava direttamente su di noi proprio come un frullo d'ali in effetti pareva contemporaneamente in ogni luogo dietro di fronte ai nostri lati e sulle nostre teste circondandoci del tutto era un suono che in verità sfidava qualsiasi descrizione nulla nei limiti della mia esperienza era simile a quell'incessante e smorzata vibrazione che si alzava su quel mondo deserto di paludi e di salici sedevamo fumando in relativo silenzio con la tensione che cresceva di momento in momento l'aspetto peggiore della situazione mi sembrava era il fatto che non sapevamo che cosa aspettarci e perciò non potevamo fare nessun genere di preparativi per difenderci non potevamo prevedere nulla per di più le spiegazioni che avevo dato alla luce del sole ora venivano a rivelarmi tutto il loro aspetto insulso e insoddisfacente e per noi era sempre più ovvio che era inevitabile fare tra di noi un discorso chiaro che ci piacesse o no dopo tutto dovevamo passare la notte insieme e dormire nella stessa tenda fianco a fianco mi rendevo conto di non poter andare avanti ancora per molto senza il suo aiuto e perciò naturalmente un discorso chiaro si imponeva tuttavia rimandai quanto possibile quella piccola crisi e tentai di ignorare o di ridere delle rare frasi che lo svedese gettava nel vuoto alcune di quelle frasi per di più erano maledettamente inquietanti poiché venivano a corroborare molto di ciò che io stesso sentivo ed era una conferma che partiva da un punto di vista totalmente diverso dal mio il che la rendeva tanto più convincente componeva quelle frasi curiose e me le scagliava contro in modo incoerente come se la linea principale dei suoi pensieri rimanesse un suo segreto e quei frammenti fossero i pezzetti che gli riusciva impossibile digerire se ne liberava pronunciandoli la parola gli dava sollievo come se si liberasse lo stomaco ci sono delle cose intorno a noi ne sono sicuro che mirano al disordine alla disintegrazione alla distruzione la nostra distruzione disse una volta mentre il fuoco fiammeggiava tra di noi in qualche luogo abbiamo deviato dal cammino sicuro e un'altra volta quando i suoni del gong erano venuti più vicini molto più forti di prima e vibravano direttamente sulle nostre teste disse come parlando a se stesso non credo che un fonografo riuscirebbe a registrarlo il suono non mi giunge affatto attraverso le orecchie le vibrazioni mi raggiungono in maniera del tutto diversa e sembrano essere dentro di me il che è precisamente il modo in cui un suono della quarta dimensione dovrebbe farsi sentire non diedi volutamente una risposta a quelle parole ma sedetti un po' più vicino al fuoco e guardai furtivamente nell'oscurità che mi circondava le nubi si erano ammassate per tutto il cielo e non lasciavano passare la luce della luna ogni cosa era silenziosa il fiume e le rane avevano tutto per sé a qualcosa continuò che è completamente al di fuori dell'esperienza comune è sconosciuto una frase sola lo descrive bene è un suono non umano voglio dire un suono estraneo all'umanità liberatosi di questo boccone indigesto rimase in silenzio per un po' ma aveva espresso così perfettamente i miei stessi sentimenti che era un sollievo averli tirati fuori e aver loro impedito circoscrivendoli con le parole di vagare qua e là per la mente la solitudine di quell'accampamento sul Danubio potrò mai dimenticarla la sensazione d'essere completamente soli su un pianeta vuoto i miei pensieri correvano senza posa alle città e alle dimore degli uomini avrei dato l'anima come si suol dire per sentire la presenza di quei villaggi bavaresi che avevamo passato a decine per le cose comuni normali umane contadini che bevevano birra tavoli sotto gli alberi il sole cocente e un castello diroccato sulle alture dietro alla chiesa dal tetto rosso persino i turisti sarebbero stati benvenuti la paura che provavo non era la solita paura degli spettri era infinitamente più grande più strana e sembrava sorgere da un oscuro senso ancestrale di terrore più profondamente inquietante di qualunque altra cosa avessi mai conosciuto o sognato avevamo deviato come aveva detto lo svedese in una regione o in una condizione dove i rischi erano grandi e tuttavia inintelligibili per noi dove le frontiere di un mondo sconosciuto erano vicine tutte intorno a noi era un luogo occupato dagli abitanti di uno spazio diverso una specie di avamposto dal quale riuscivano a spiare la terra rimanendo invisibili in un punto in cui il velo che ci divideva era diventato più sottile se il nostro soggiorno qui si fosse prolungato troppo a lungo saremmo stati trascinati oltre il confine e privati di ciò che noi chiamavamo le nostre vite ma attraverso un processo mentale non fisico in questo senso come aveva detto il mio compagno saremmo stati vittime della nostra avventura un sacrificio tutto ciò aveva effetti diversi su noi due ciascuno secondo il suo grado di sensibilità e le sue capacità di resistenza io lo traducevo vagamente in una personificazione degli elementi perturbati che rivestivo dell'orrore di una intenzione deliberata e malefica irritata per la nostra intrusione mentre il mio amico pensava alla profanazione di un santuario antico un luogo in cui le divinità ancestrali avevano ancora il loro dominio dove le forze emotive degli antichi adoratori alleggiavano ancora e la parte più profonda della sua anima cedeva all'antica magia pagana comunque quello era un luogo incontaminato dagli uomini purificato dai venti libero da rozze influenze terrene un luogo in cui arcane potenze spirituali erano vicine e aggressive mai prima o dopo di allora sono stato assalito con tanta forza da indescrivibili suggestioni di una regione ulteriore di un altro schema di vita un'altra evoluzione non parallela a quella umana e alla fine le nostre menti avrebbero dovuto soccombere sotto il peso di quell'incantesimo spaventoso e saremmo stati trascinati al di là della frontiera nel loro mondo mille piccoli particolari testimoniavano le stupefacenti influenze di quel luogo e ora nel silenzio che regnava intorno al fuoco esse sembravano concedersi all'esame della mente la stessa atmosfera si era rivelata un mezzo amplificante che distorceva ogni percezione la lontra che si rotolava nella corrente il barcaiolo frettoloso che faceva segni i salici che si muovevano ciascuno e tutti questi elementi erano stati derubati dei loro caratteri naturali e avevano rivelato qualcosa di un altro loro aspetto quello che vigeva oltre il confine nell'altra regione e questo aspetto stravolto lo sentivo era estraneo non solo a me ma all'intera razza umana l'intera esperienza i cui limiti stavamo sfiorando era del tutto ignota all'umanità era un'altra sfera di esperienza non terrena nel senso più vero della parola è un proposito deliberato e calcolato che vuol ridurre a zero il nostro coraggio disse improvvisamente lo svedese come se avesse seguito i miei pensieri altrimenti l'immaginazione potrebbe spiegare molte cose ma la pagaia la canoa le provviste saccheggiate non ho già spiegato tutto l'interruppi con scarsa convinzione l'hai fatto rispose lui asciutto l'hai fatto davvero fece qualche altra osservazione come al solito su ciò che chiamava il deliberato proposito di procurarsi una vittima ma poiché avevo ormai riordinato meglio le mie idee mi rendevo conto che quello era semplicemente il grido della sua anima spaventata di fronte alla certezza di essere aggredito in una parte vitale e che in qualche maniera sarebbe stato catturato e distrutto la situazione richiedeva un coraggio e una calma di ragionamento che nessuno di noi due possedeva e mai prima di allora ero stato tanto chiaramente cosciente dell'esistenza di due persone dentro di me una che spiegava tutto e l'altra che rideva di tali sciocche spiegazioni ma era orribilmente spaventata intanto nella notte nera come la pece il fuoco stava morendo e la riserva di legna diminuiva nessuno di noi si muoveva per reintegrarne la provvista e la tenebra si andava avvicinando molto ai nostri volti pochi metri al di là del cerchio di luce era buio come l'inchiostro talvolta un colpo di vento faceva fremere i salici intorno a noi ma a parte questo suono non molto gradito regnava un silenzio cupo e deprimente rotto soltanto dal gorgogliare del fiume e dal vibrare dell'aria sopra di noi sentivamo entrambi la mancanza della compagnia urlante dei venti infine in un momento in cui una raffica isolata si prolungò come se il vento stesse per rialzarsi arrivai al mio punto di saturazione il punto in cui era assolutamente necessario trovare sollievo parlando chiaramente senza abbandonarsi a qualche stravaganza isterica che sarebbe riuscita molto più dannosa per entrambi con un calcio nel fuoco ne feci nascere nuovi bagliori e mi voltai di scatto verso il mio compagno mi guardò trasalendo non posso più nasconderlo dissi non mi piace questo luogo l'oscurità i rumori e le orribili sensazioni che provo qui c'è qualcosa che mi sconvolge e che non riesco a spiegare ho una paura tremenda ecco la verità nuda e cruda se la riva di fronte fosse diversa giuro che sarei pronto a raggiungerla a nuoto il viso dello svedese impallidì sotto la forte abbronzatura causata dal sole e dal vento mi fissò e rispose a voce bassa ma la sua voce tradiva con la sua calma innaturale una profonda agitazione in quel momento in ogni modo era lui il più forte dei due era più flemmatico tanto per cominciare non si tratta di una condizione fisica dalla quale potremmo liberarci con la fuga rispose col tono di un dottore che annuncia una grave malattia dobbiamo restare qui seduti e aspettare ci sono forze tutti intorno che potrebbero uccidere ad un colpo una mandria di elefanti con la facilità con cui tu o io schiacceremmo una mosca la nostra sola speranza sta nel mantenerci completamente immobili forse la nostra pochezza potrà salvarci feci una dozzina di domande con la sola espressione del viso ma non trovai parole adatte per esprimerle era come ascoltare la curata diagnosi di una malattia i cui sintomi mi avevano sconcertato voglio dire che fino ad ora sebbene siano coscienti della nostra fastidiosa presenza loro non ci hanno ancora trovati non ci hanno localizzati come dicono gli americani continuò stanno vagando a tentoni come uomini che cercano una fuga di gas la pagaia la canoa e le provviste lo provano credo che ci avvertano vagamente ma non riescano a vederci in modo preciso dobbiamo fare silenzio nelle nostre menti sono le nostre menti che loro percepiscono dobbiamo controllare i nostri pensieri o è finita per noi è la morte vuoi dire balbettai agghiacciato dall'orrore peggio molto peggio disse lo svedese la morte secondo le diverse credenze significa o l'annullamento o la liberazione dalle limitazioni dei sensi ma non implica un cambiamento di natura non si cambia improvvisamente solo perché il corpo è morto ma qui si tratta di un cambiamento radicale un'alterazione completa l'orribile perdita di se stessi per via di una sostituzione è molto peggiore della morte o di un semplice annullamento ci è accaduto di accamparci in un punto dove la loro regione tocca la nostra dove il velo tra le due è divenuto più sottile orrore stava usando esattamente la mia frase le mie stesse parole perciò loro sanno che noi ci troviamo nelle vicinanze ma chi sono dimenticai il fremito dei salici nella calma senza vento l'eco del gong nell'aria tutto insomma fuorché il fatto che stavo attendendo una risposta che temevo più di quanto riesca a spiegare il mio amico abbassò la voce per rispondere piegandosi un poco in avanti verso il fuoco con un mutamento indefinibile sul viso che mi indusse ad evitare il suo sguardo e a chinare gli occhi verso il suolo per tutta la vita disse sono stato stranamente e vivamente consapevole dell'esistenza di un altro regno non molto distante dal nostro mondo in un certo senso ma di natura del tutto diversa dove accadono continuamente grandi cose dove immense e terribili personalità si affannano occupate in immani imprese al cui confronto gli affari terreni il sorgere il cadere delle nazioni i destini degli imperi il fato di eserciti e di continenti sono come polvere in mani imprese voglio dire che riguardano direttamente l'anima e indirettamente le semplici espressioni dell'anima ora suggerirei cominciai cercando di fermarlo con l'impressione di trovarmi di fronte a un folle ma lui mi travolse subito con un torrente irrefrenabile di parole tu pensi disse che siano gli spiriti degli elementi e io ho pensato che forse erano gli antichi dei ma ora ti dico che non si tratta né degli uni né degli altri queste sarebbero entità comprensibili perché hanno relazioni con gli uomini dipendono da loro per il culto e i sacrifici mentre questi esseri che sono ora intorno a noi non hanno assolutamente nulla a che fare con l'umanità ed è una semplice combinazione che il loro spazio tocchi il nostro proprio in questo punto i concetti che le sue parole rendevano non so perché così convincenti da soli mi fecero tremare in tutto il corpo mentre li ascoltavo nel cupo silenzio di quell'isola solitaria mi accorsi che mi riusciva impossibile controllare i miei movimenti e cosa proponi di fare domandai un sacrificio una vittima potrebbe salvarci distraendoli mentre fuggiamo continuò proprio come i lupi si fermano per divorare i cani e danno un altro vantaggio alla slitta ma qui ora non vedo altre vittime lo fissai senza comprendere il luccichio del suo sguardo era spaventoso dopo poco riprese a parlare sono i salici naturalmente i salici mascherano gli altri ma gli altri ci stanno cercando qui intorno se permettiamo che le nostre menti tradiscano la paura siamo perduti completamente perduti mi guardò con un'espressione così calma decisa e sincera che non ebbi più dubbi sulla sua sanità mentale la sua mente era lucida quanto può esserla quella di qualsiasi uomo se riusciamo a resistere per tutta la notte aggiunse potremmo partire alla luce del giorno senza essere notati o piuttosto senza essere scoperti ma pensi davvero che un sacrificio potrebbe il suono simile all'eco di un gong scese vicinissimo alle nostre teste mentre parlavo ma fu il viso terrorizzato del mio amico a troncare le mie parole zitto mormorò alzando una mano non parlare di loro più che non sia necessario non chiamarli per nome nominare significa rivelare è una traccia inevitabile e la nostra sola speranza è di ignorarli in modo che loro ignorino noi anche col pensiero il mio amico era straordinariamente agitato specialmente col pensiero i nostri pensieri creano delle spirali nel loro mondo dobbiamo tenerli fuori dalle nostre menti a tutti i costi se ci è possibile attizzai il fuoco riattizzandolo per impedire che l'oscurità avesse partita vinta non ho mai desiderato il sole come lo desiderai allora nella terribile oscurità di quella notte d'estate sei rimasto sveglio per tutta la notte scorsa mi chiese improvvisamente mi sono assopito poco dopo l'alba e ho dormito male risposi evasivamente tentando di seguire le sue istruzioni che distinto sapevo vere ma il vento naturalmente lo so ma il vento non basta a spiegare tutti i rumori allora li hai sentiti anche tu gli innumerevoli piccoli passi multipli se li ho uditi disse aggiungendo dopo un momento di esitazione e poi quell'altro rumore vuoi dire sulla tenda e il premere su di noi di qualcosa di tremendo gigantesco annui in maniera significativa era come l'inizio di una specie di soffocamento interiore chiesi in parte sì mi sembrava che il peso dell'atmosfera fosse stato alterato che fosse aumentato enormemente tanto che saremmo stati schiacciati e quello continuai deciso ad affrontare tutta la verità indicando verso l'alto dove quella nota simile ad un gong vibrava incessante sollevandosi e cadendo come il soffio del vento che cosa pensi di quello è il loro suono sussurrò gravemente è il suono del loro mondo l'eco del loro regno il diaframma qui è talmente sottile che in qualche maniera c'è un passaggio tra le due regioni e il suono può filtrare ma se ascolti attentamente troverai che non è tanto sopra quanto intorno a noi è nei salici sono i salici stessi che lo riecheggiano perché qui i salici sono divenuti simboli delle forze che ci sono nemiche non riuscivo a capire bene cosa volesse dire ma i pensieri e le idee che dominavano la mia mente erano senza dubbio gli stessi che dominavano la sua ero cosciente di ciò di cui lui era cosciente solo con minore capacità di analisi di lui stavo per dirgli infine della mia allucinazione delle figure ascendenti e dei cespugli che si muovevano quando improvvisamente si spinse verso di me al di sopra del fuoco e cominciò a parlare in un mormorio concitato mi meravigliò con la sua calma e il suo coraggio il suo apparente controllo della situazione proprio quell'uomo che per anni avevo giudicato rude e privo di immaginazione ora ascoltami disse la sola cosa che possiamo fare è di continuare come se nulla fosse accaduto seguire le nostre normali abitudini andare a dormire e così via fingere di non sentire nulla e di non notare nulla è un problema che riguarda soltanto la mente e meno pensiamo a loro migliore è la nostra possibilità di cavarcela soprattutto non pensare perché ciò che pensi accadrà va bene riuscì a rispondergli quasi senza fiato per le sue parole e per la stranezza della situazione va bene tenterò ma dimmi ancora una cosa dimmi che cosa sono secondo te quelle depressioni sul suolo tutto intorno a noi quegli imbuti scavati nella sabbia no gridò il mio amico dimenticandosi di tenere la voce bassa non ho il coraggio non posso tradurre in parole ciò che ne penso sono contento che tu non l'abbia capito non cercare la verità loro l'hanno conficcata nella mia mente fai del tuo meglio per impedire che la pongano anche nella tua abbassò di nuovo la voce in un sussurro prima di finire e non insistetti perché si spiegasse meglio in me c'era già tutto l'orrore che potevo sopportare la conversazione giunse al termine e continuammo in silenzio a fumare la pipa poi accadde qualcosa qualcosa apparentemente senza importanza come succede quando i nervi si trovano in uno stato di grande tensione e questa piccola cosa mi dette per un breve istante un punto di vista completamente diverso mi accadde di guardare una delle mie scarpe da campeggio quelle che usavamo nella canoa e qualcosa nella forma del foro sulla punta mi portò di improvviso alla mente il negozio di Londra in cui le avevo acquistate le difficoltà che il commesso aveva avuto nel trovare la giusta misura per me e altri particolari di quell'operazione poco interessante ma pratica subito sulla scia di quei pensieri seguì la rasserenante visione del disincantato mondo moderno nel quale ero abituato a muovermi in patria pensai a Rosbiff alla birra alle automobili ai poliziotti alle bande musicali a una dozzina di altre cose che simboleggiavano lo spirito della praticità e della vita normale l'effetto fu immediato e sbalorditivo persino per me dal punto di vista psicologico credo fu semplicemente una reazione improvvisa e violenta alla tensione del vivere in un'atmosfera fatta di cose che alla coscienza normale debbono sembrare intollerabili e incredibili ma quale che fosse la causa cancellò l'incantesimo dal mio spirito lasciandomi per il breve spazio di un momento libero e del tutto privo di timore guardai il mio amico di fronte a me dannato vecchio pagano esclamai ridendogli in faccia sei un bell'idiota fantasioso un idolatra superstizioso tu mi fermai a metà di nuovo travolto dal vecchio orrore tentai di smorzare il suono della mia voce come fosse qualcosa di sacrilego lo svedese naturalmente lo aveva sentito anche lui quello strano grido nell'oscurità sopra di noi e quell'improvviso movimento discendente nell'aria come se qualcosa fosse venuto più vicino era diventato bianco come la cenere sotto la bronzatura si alzò di scatto in piedi di fronte al fuoco duro come una verga fissandomi dopo questo disse con un tono quasi disperato e frenetico dobbiamo andarcene non possiamo più restare dobbiamo levare il campo in questo stesso istante e proseguire giù per il fiume parlava lo vedevo in maniera dissennata le sue parole erano dettate da un terrore abietto il terrore al quale aveva resistito per tanto tempo ma che infine l'aveva travolto nell'oscurità esclamai tremando di paura dopo quel mio scatto isterico ma rendendomi conto della situazione meglio di lui è pura pazzia il fiume è in piena e ci è rimasta una sola pagaia inoltre ci addentreremmo ancora di più nel loro territorio dinanzi a noi non c'è null'altro per 80 chilometri che salici salici e salici si sedette di nuovo in uno stato vicino al collasso le nostre posizioni per uno di quei cambiamenti kaleidoscopici che la natura ama si erano improvvisamente rovesciate e il controllo delle nostre forze era passato nelle mie mani la mente del mio amico aveva raggiunto ormai il punto in cui cominciava a indebolirsi che cosa mai ti ha spinto ad agire così mormorò con un tono di autentico terrore nella voce e nel viso passai dal suo lato del fuoco gli presi le mani nelle mie inginocchiandomi vicino a lui e guardandolo fisso negli occhi ravviveremo ancora il fuoco dissi con fermezza e poi andremo a letto all'alba partiremo a tutta velocità per comorn ora tirati su e ricorda il tuo stesso consiglio non pensare alla paura non rispose e vidi che avrebbe accettato e obbedito in una certa misura fu un sollievo alzarci e compiere un'escursione nell'oscurità per cercare altra legna ci tenevamo vicini quasi toccandoci procedendo a tentoni tra i cespugli e lungo l'argine l'eco del gong sopra di noi non cessava mai anzi sembrava che divenisse più alto man mano che ci allontanavamo dal fuoco era davvero agghiacciante stavamo raccogliendo legna nel mezzo di una fitta macchia di salici dove parecchi arbusti portati da una precedente piena si erano impigliati tra i rami quando il mio corpo fu afferrato in una stretta che mi fece quasi cadere sulla sabbia era lo svedese mi era caduto addosso e si aggrappava a me per sostenersi il suo respiro veniva e andava in soffi brevi e ansanti guarda per l'amor di dio bisbigliò e per la prima volta in vita mia sentii lacrime di terrore in una voce umana stava indicando verso il fuoco a circa venti metri di distanza seguii la direzione del suo indice e giuro che il mio cuore mancò un colpo lì davanti al debole chiarore qualcosa si stava muovendo la vidi attraverso un velo che era sceso dinanzi ai miei occhi come un sipario di garza su un palcoscenico attraverso un velo di nebbia non era una figura umana né animale mi fece la strana impressione di essere grande come diversi animali uniti insieme come due o tre cavalli che si muovessero lentamente lo svedese ebbe anche lui la medesima impressione pur esprimendola in modo diverso perché pensava che avesse la forma e le dimensioni di una macchia di salici arrotondata in alto che si muovesse su tutta la sua superficie avvolgendosi su se stessa come fumo disse più tardi l'ho vista calare in basso attraverso i cespugli disse con voce rotta guarda per dio viene da questa parte lanciò una specie di grido strozzato ci hanno trovati lanciai uno sguardo terrificato che mi permise appena di vedere che quella forma fatta d'ombra si stava slanciando verso di noi attraverso i cespugli poi caddi all'indietro tra i rami con gran rumore i rami naturalmente non riuscirono a sostenere il mio peso e caddi con lo svedese sopra di me in una massa che si agitava sulla sabbia non capivo più che cosa stesse accadendo provavo solo una specie di sensazione avviluppante di gelida paura che mi strappava i nervi dalla carne e li torceva facendoli vibrare avevo gli occhi convulsamente serrati e qualcosa sembrava strozzarmi la sensazione che la mia coscienza si stesse espandendo estendendosi nello spazio fu sostituita velocemente da un'altra sensazione quella di star perdendo completamente la coscienza ed essere sul punto di morire un acuto spasmo doloroso mi attraversò e mi accorsi che lo svedese si era aggrappato così ferocemente da farmi male mi aveva afferrato in quel modo cadendo ma fu proprio quel dolore mi dichiarò più tardi che mi salvò fece in modo che io mi dimenticassi di loro e pensassi a qualcos'altro proprio nel momento in cui stavano per trovarmi ce l'ho la mia mente proprio al momento della scoperta appena in tempo per impedire che mi ghermissero lui stesso mi disse era svenuto proprio allora e questo lo aveva salvato so soltanto che un po' più tardi è impossibile dire se molto o poco mi trovai intento a trascinarmi fuori dall'intreccio scivoloso di rami di salice e vidi il mio compagno in piedi di fronte a me con la mano tesa per aiutarmi lo fissai stordito strofinandomi il braccio che mi aveva distorto non so perché ma non mi venne da dire nulla ho perduto i sensi per qualche momento lo udì dire questo mi ha salvato mi ha fatto smettere di pensare a loro mi hai quasi rotto un braccio dissi esprimendo il mio unico pensiero coerente di quel momento una specie di torpore mi stava pervadendo è proprio questo che ti ha salvato rispose lo svedese siamo riusciti a metterli in qualche maniera su una falsa pista anche il suono del gong è cessato non si sente più per il momento almeno un'ondata di riso isterico mi colse di nuovo e questa volta contagiò anche il mio amico grandi raffiche rasserenanti di risate che portavano con sé un enorme senso di sollievo ritornammo al fuoco e vi aggiungemmo la legna facendolo divampare di nuovo allora ci accorgemmo che la tenda era crollata e giaceva al suolo in un mucchio aggrovigliato la rialzammo e nel farlo inciampammo più di una volta con i piedi nella sabbia sono quegli imbuti disse lo svedese quando la tenda fu di nuovo ritta e il fuoco illuminava il suolo per diversi metri intorno a noi e guarda quanto sono grandi ora tutto intorno alla tenda e al fuoco dove avevamo visto muoversi le ombre c'erano nella sabbia dei profondi avvallamenti a forma di imbuto identici a quelli che avevamo trovato per l'isola solo che erano molto più grandi e profondi nettamente formati e larghi abbastanza in alcuni casi da contenere sia il mio piede che l'intera gamba nessuno di noi disse una parola sapevamo che la cosa migliore da fare era dormire e perciò senza altri indugi andammo a letto dopo aver gettato sabbia sul fuoco e portato il sacco delle provviste e la pagaia dentro la tenda con noi inoltre appoggiammo la canoa ad un capo della tenda in modo tale che i nostri piedi la toccavano il minimo movimento ci avrebbe disturbati e svegliati andammo di nuovo a dormire vestiti pronti a muoverci in fretta in caso d'emergenza capitolo quinto ero fermamente intenzionato a rimanere sveglio e allerta tutta la notte ma lo sfinimento dei nervi e del corpo ebbe la meglio e dopo un po' il sonno mi avvolse come una gradita coperta d'oblio il fatto che anche il mio compagno dormisse già affrettò il suo arrivo sulle prime si agitò alzandosi a sedere di continuo chiedendomi se sentivo questo o udivo quello si rigirava sul materasso di sughero dicendo che la tenda si stava muovendo e il livello del fiume era salito sopra la punta dell'isola ma ogni volta che uscivo per controllare la situazione ritornavo con la notizia che tutto andava bene infine divenne più calmo e rimase disteso in silenzio poi il suo respiro si fece regolare e sentì che stava russando fu la prima e unica volta nella mia vita in cui russare altrui mi sia parso gradito e rilassante ricordo che questo fu l'ultimo pensiero che mi attraversò la mente prima di addormentarmi mi destò una difficoltà di respirazione e mi trovai con la coperta sul viso ma qualcos'altro oltre la coperta premeva su di me e il mio primo pensiero fu che il mio compagno si fosse voltato nel sonno dal suo materasso finendo sul mio lo chiamai e mi misi a sedere e in quel momento compresi che la tenda era circondata fuori si udiva di nuovo il suono di innumerevoli piccoli passi che riempivano la notte di orrore chiamai di nuovo il mio amico a voce più alta non mi rispose ma sentivo che non russava più e notai pure che il telo d'ingresso della tenda era sciolto questo era un errore imperdonabile scivolai fuori per riagganciarlo e per la prima volta mi resi conto che lo svedese non era più con me se n'era andato mi lanciai fuori di corsa come un pazzo preso da una paurosa agitazione e nel momento in cui fui fuori piombai in una specie di torrente di suono echeggiante che mi circondò completamente sembrava provenire da ogni parte del cielo era lo stesso suono che conoscevo bene sembrava che uno sciame di enormi api invisibili stesse volando tutto intorno a me il suono sembrava rendere più denso l'atmosfera stessa e sentivo che i miei polmoni funzionavano con difficoltà ma il mio amico era in pericolo e non potevo esitare l'alba stava per sorgere e un debole chiarore livido si allargava sulle nubi da una sottile striscia di orizzonte sgombro non c'era vento riuscivo appena a vedere le macchie di salici e il fiume oltre di essi e le pallide barene sabbiose nella mia agitazione corsi freneticamente qua e là per l'isola chiamando per nome il mio amico urlando a tutta voce le prime parole che mi venivano in mente ma i salici soffocavano le mie grida e il suono le sovrastava mi gettai tra i salici incespicando e inciampando sulle radici e graffiandomi il viso mentre mi aprivo il cammino tra i rami poi del tutto inaspettatamente mi trovai sulla punta estrema dell'isola e scorsi una sagoma scura profilata fra l'acqua e il cielo era lo svedese e aveva già un piede nell'acqua tra un attimo si sarebbe tuffato mi gettai su di lui serrandogli le braccia intorno alla vita e trascinandolo con tutte le mie forze verso terra lottò furiosamente emettendo un suono simile a quel maledetto fremito di gong e usando nella sua follia le frasi più strane come andare dentro per raggiungerli e prendere la via dell'acqua e del vento e Dio solo sa che altro ancora tutte cose che cercai in vano di ricordare più tardi ma che allora mi fecero rabbrividire d'orrore e meraviglia ma alla fine riuscii a portarlo nella relativa sicurezza della tenda e lo gettai senza fiato e imprecante sul materasso dove lo teni a forza sino a quando la crisi non gli fu passata penso che la subitaneità con la quale tutto ciò accadde e la coincidenza della sua calma con l'improvvisa cessazione del suono del gong e del rumore di piccoli passi lì fuori beh penso che forse questa fu la parte più strana dell'intera avventura infatti si limitò ad aprire appena gli occhi alzando il viso stanco verso di me mentre l'alba gettava una luce livida attraverso l'ingresso della tenda poi disse proprio come un bimbo spaventato la mia vita vecchio mio è la mia vita che ti devo ma ora è tutto finito hanno trovato una vittima al nostro posto poi ricadde sulle coperte e si addormentò di colpo sotto i miei occhi crollò e cominciò di nuovo a russare di bell'impegno come se nulla fosse accaduto e lui non avesse tentato di offrire annegando la propria vita come sacrificio quando la luce del sole lo svegliò tre ore più tardi ore di incessante veglia per me mi divenne chiaro che non ricordava assolutamente nulla di ciò che aveva tentato di fare perciò ritenni più saggio tacere e non fare domande pericolose si svegliò spontaneamente e facilmente come ho detto quando il sole era già alto in cielo caldo e senza vento e si alzò subito dandosi da fare a preparare la colazione lo seguì ansioso quando andò a lavarsi ma non fece alcun tentativo di tuffarsi immergendo semplicemente il capo e osservando che l'acqua era incredibilmente gelida il fiume sta calando finalmente disse ne sono contento anche il suono è cessato feci mi guardò con un'espressione del tutto normale evidentemente ricordava ogni cosa fuorché il suo tentativo di suicidio tutto è cessato disse perché esitò ma sapevo che un qualche riferimento all'osservazione che aveva fatto subito prima di svenire lì vagava nella mente ed ero deciso a scoprirlo perché hanno trovato un'altra vittima dissi con un risolino forzato esattamente rispose esattamente ne sono certo come se come se mi sento di nuovo al sicuro voglio dire finì cominciò a guardarsi attorno con curiosità la luce del sole chiazzava le radure di sabbia calda non c'era vento i salici erano immobili si alzò lentamente in piedi vieni disse credo che se cerchiamo lo troveremo si avviò di corsa io lo seguì si mantenne sugli argini frugando con un bastone tra le piccole baie sabbiose nelle rientranze e nelle acque stagnanti mentre io mi mantenevo vicinissimo dietro di lui ah esclamò poco dopo ah il tono nella sua voce rievocò in certo modo il vivo senso d'orrore delle ultime ventiquattro ore e mi misi subito al suo fianco stava indicando col bastone un grosso oggetto nero che giaceva per metà nell'acqua e per metà sulla sabbia sembrava impigliato nelle radici contorte dei salici tanto che il fiume non riusciva a trascinarlo via poche ore prima quel punto doveva essere stato sotto la superficie dell'acqua guarda dissi piano ecco la vittima che ha reso possibile la nostra salvezza e quando sbirciai al di sopra della sua spalla vidi che il bastone era appoggiato sul corpo di un uomo lo girò era il cadavere di un contadino il cui viso era nascosto dalla sabbia si capiva che quell'uomo era affogato soltanto poche ore prima e il suo corpo doveva essere stato trascinato dalle acque sulla nostra isola verso l'alba cioè proprio nel momento in cui la crisi era cessata dobbiamo dargli una sepoltura decente capisci credo di sì risposi rabbrividi un poco a dispetto di me stesso perché c'era qualcosa nell'aspetto di quel povero uomo annegato che mi agghiacciava lo svedese alzò uno sguardo indagatore su di me con un'espressione indecifrabile sul viso e cominciò a scivolare giù per l'argine lo seguì più lentamente notai che la corrente aveva strappato dal corpo parte dei vestiti e che il collo e parte del torace erano scoperti a metà della discesa il mio compagno si fermò improvvisamente e alzò la mano in un gesto di avvertimento ma o mi scivolò il piede o avevo preso troppo slancio per riuscire a fermarmi di colpo certo è che urtai contro di lui e lo costrinsi a fare un salto in avanti per non cadere rotolammo insieme sulla sabbia compatta e i nostri piedi schizzarono nell'acqua e non riuscimmo a evitare di urtare pesantemente il cadavere lo svedese lanciò un grido acuto e io saltai indietro come se fossi stato colpito da una revolverata nel momento in cui toccammo il corpo se ne levò il forte suono del gong un suono molteplice che svanì con un fruscio come di essere alati nell'aria intorno a noi e scomparve in alto nel cielo divenendo sempre più debole sino a quando si perse lontano fu come se avessimo disturbato l'attività di creature viventi ma invisibili il mio compagno si aggrappò a me e credo che lo facessi anch'io ma prima che l'uno o l'altro di noi avesse il tempo per riprendersi da quel colpo inaspettato vedemmo che il movimento della corrente stava voltando il cadavere liberandolo dalla stretta delle radici dei salici un istante dopo era completamente voltato con il viso inanimato in alto e gli occhi spalancati verso il cielo giaceva sull'orlo della corrente ancora un momento e sarebbe stato trascinato via lo svedese si lanciò per recuperarlo gridando di nuovo qualcosa che non riuscì a comprendere bene circa una decente sepoltura e poi ad un tratto cadde in ginocchio sulla sabbia e si coprì gli occhi con le mani in un attimo fui al suo fianco e vidi ciò che lui aveva visto infatti mentre il corpo si girava nella corrente il suo viso e il petto scoperto si rivoltarono verso di noi e mostrarono chiaramente come la pelle e la carne fossero intaccate da piccole cavità perfettamente scavate ed esattamente simili per la forma ai vortici di sabbia che avevamo trovato su tutta l'isola il loro marchio udì balbettare il mio compagno con un filo di voce il loro orribile marchio quando rivolsi di nuovo lo sguardo dal suo viso sconvolto verso il fiume la corrente aveva compiuto la sua opera e il corpo era stato trascinato via ed era ormai fuori della nostra portata e quasi della nostra vista e girava e rigirava tra le onde come una lontra la sua opera è un'epoca lontra che si è un'epoca di nuovo il nostro è un'epoca il nostro è un'epoca è un'epoca